Io ho avuto a che fare, scusate, il computer mi avvisava che c'è la registrazione e io ho avuto soprattutto a che fare con Annie Truman e con Ludovica De Paulis, però so che ci sono molte altre persone dietro questa iniziativa. Mi piace che venga dagli studenti, non è il mio compito fare gli onori di casa perché sono a mia volta un ospite, tuttavia come docente di casa mi sento anche di ringraziare il professor Marcello Massimini e il professor Matteo Sozzi per aver aderito a una iniziativa che nasce appunto dagli studenti come esigenza di autoformazione e che non si muove negli usuali canali accademici, che per questo motivo io ritengo essere vi è più meritevole. Sarò brevissima, il mio compito oggi, il compito che mi sono diciamo autoattribuita è solo quello di dare qualche definizione della parola coscienza per portarci un attimo al centro delle questioni che tratteremo oggi. Quindi voglio solo darvi così un quadro molto molto breve delle definizioni di coscienza, ovviamente da un punto di vista filosofico, ma che secondo me prelude anche allo studio della coscienza in altri ambiti. Bene, anche solo in lingua italiana, volendo proprio iniziare da come usiamo la parola coscienza, noi diciamo una persona è cosciente. Quando diciamo che una persona è cosciente intendiamo che è sveglia, è in grado di recepire e di reagire a stimoli. Poi diciamo anche che una persona è cosciente di essere in un certo stato mentale. Questa seconda accezione di coscienza è ben diversa dalla prima, perché questa seconda implica una consapevolezza. Che differenza c'è tra coscienza e consapevolezza? La consapevolezza individua qualcosa di più specifico, che ha a che fare con l'attenzione vigile e con il focus. Quando siamo coscienti di essere in un certo stato mentale, la nostra attenzione è rivolta ai nostri stati mentali. Una terza accezione in cui si può intendere la coscienza è espressa dalla frase che gli esseri umani sono coscienti dei loro stati mentali. Mentre la seconda definizione si definisce come una sorta di state consciousness, perché il problema è che siamo coscienti di uno specifico stato mentale, mentre possiamo non essere coscienti di altri. Nella terza definizione è implicata una sorta di creature consciousness, perché stiamo parlando del fatto che alcuni tipi di creature, diciamo, sono coscienti dei loro stati mentali. Però quando parliamo del fatto che gli umani sono coscienti dei loro stati mentali, in realtà abbiamo in mente qualcosa di più complesso. Abbiamo in mente molto spesso la cosiddetta autocoscienza, che è una forma di consapevolezza di sé. Cioè noi come esseri umani siamo consapevoli del nostro agire, del nostro corpo, della nostra vita mentale. L'autocoscienza contrassegna il più alto grado di coscienza introspettiva dei nostri stati mentali. Cioè il modo più alto in cui noi, da un punto di vista introspettivo, attraverso quello che possiamo chiamare anche lo sguardo interiore, possiamo guardare i nostri stati mentali. L'autocoscienza, fra l'altro, è alla base della consapevolezza di sé, quali persone unica, diversa dalle altre, e anche alla base, per certi aspetti, del nostro senso di identità personale. La prima e la terza definizione, che riprendo in questa slide, una persona è cosciente, cioè sveglia, è in grado di recepire e di reagire a stimoli, e la terza, gli esseri umani sono coscienti dei loro stati mentali, nel senso dell'autocoscienza, sono probabilmente, tra le definizioni che ho dato finora, quelle più rilevanti sul piano clinico, quelle più utili per poi procedere a definire dei disturbi della coscienza, come, per esempio, lo stato vegetativo, lo stato di coscienza minima. Potremmo però dire ancora qualcosa di più specifico a proposito della definizione di coscienza, utilizzando, per esempio, una frase come una persona è cosciente di qualcosa. Cosa intendiamo quando diciamo che una persona è cosciente di qualcosa? Anzitutto, di cosa siamo coscienti? L'oggetto, diciamo, della nostra coscienza è tipicamente un pensiero o un contenuto perceptivo. Io sono cosciente di che domani è giovedì, io sono cosciente che qui davanti a me c'è una penna e un quaderno. Ma quando una persona è cosciente di un pensiero o di una percezione, a che condizioni diciamo che una persona è cosciente di un pensiero o di una percezione? Beh, una persona è cosciente di un pensiero o di una percezione quando riesce a rappresentarselo mentalmente. Qui ho messo tra parentesi una cosa che è utile solo per i filosofi, ma almeno volevo dare un hint per chi viene da un certo tipo di percorso, quando in realtà riusciamo appunto a trattenere intenzionalmente, nel senso brentaniano, un pensiero, una percezione dentro la nostra mente. Ovviamente questa percezione o questo pensiero devono essere di nuovo oggetto dell'attenzione. L'attenzione è un concetto che ha importanti legami con la coscienza. Bene, in filosofia si distingue, almeno appunto a partire dalla fine degli anni 90, quindi è una distinzione ormai che si considera quasi classica, tra due forme di coscienza che sono diverse tra di loro, ovviamente anche apparentate, ma fondamentali nell'ambito della ricerca. La prima è la coscienza di accesso, la seconda è la cosiddetta coscienza fenomenica. La distinzione risale a Ned Block. Cosa intendiamo con coscienza di accesso? Allora, la coscienza di accesso è l'informazione globale, sia questa esplicita o inferenziale, disponibile al sistema. Un esempio è molto più utile di questa definizione che in realtà è più complessa di quello che è in realtà. Voi in questo momento non siete consapevoli del colore dei coccodrilli, però se io vi chiedo di che colore sono i coccodrilli, diventate consapevoli di questa informazione. Se io vi chiedo qual è la vostra data di nascita, non ci starate pensando un minuto fa, ma se ve lo chiedo, voi potete accedere a questa informazione. Ecco, la coscienza di accesso designa la possibilità di accedere a dei contenuti che sono disponibili a noi come sistema perché sono parte della nostra informazione globale. La conoscenza del colore dei coccodrilli o della nostra data di nascita è in forma esplicita, ma in realtà noi la possiamo recuperare e utilizzare anche per operazione di carattere inferenziale. Se vi chiedo qual è la vostra data di nascita o potendo voi recuperare la vostra data di nascita e vi do l'informazione che Sergio Mattarella è nato nel 41, voi potete calcolare qual è la differenza tra i vostri anni e quelli di Mattarella in modo molto semplice, facendo operazione sui contenuti a cui avete avuto accesso. Cosa voglio dire? Voglio dire che uno stato mentale si considera cosciente nel senso della coscienza di accesso se il suo contenuto è accessibile e disponibile alla riflessione e al controllo del comportamento. Cioè quando io posso accedere a un'informazione che ho salvato in memoria da qualche parte e questa mi serve appunto per riflettere e per controllare il comportamento. Contrapposta alla coscienza di accesso vi è la cosiddetta coscienza fenomenica. Cosa si intende con coscienza fenomenica? La coscienza fenomenica descrive le sensazioni, quelle che nel gergo filosofico vengono denominate qualia. La nostra percezione, sia questa esercitata con i sensi esterni oppure con i sensi interni, è caratterizzata da sensazioni coscienti e provare una certa sensazione fa un certo effetto. Cioè se per esempio avete mal di denti, avere mal di denti vi dà una sensazione abbastanza chiara che non confondereste mai con la fame perché c'è un aspetto qualitativo nel mal di denti. Ovviamente i mal di denti vi danno anche un pezzo di informazione che i vostri denti hanno un problema ma il problema non è che questa informazione non vi arriva in un modo neutrale, non vi arriva in un modo freddo, vi arriva attraverso una proprietà qualitativa specifica che è la sensazione specifica del mal di denti. Qui ho fatto vari esempi che provengono da varie modalità sensoriali. Il sapore del merlot e il fatto che riesco a distinguere che è un merlot. Sapere che è un merlot è un pezzo di informazione ma il fatto che sia un merlot io lo comprendo perché il che sia merlot mi dà una particolare sensazione, in questo caso gustativa. L'odore del latte bruciato mi dice che ho bruciato il latte ma mi dà anche una particolare sensazione, in inglese si dice un what it is like, cioè un aspetto qualitativo. Allora tutte le sensazioni nell'universo umano, più in generale potremmo persino dire nell'universo delle creature viventi probabilmente, le sensazioni hanno un aspetto cosciente, cioè hanno un aspetto qualitativo specifico e tramite queste qualità noi accediamo a delle informazioni. Per esempio che il mio dente ha un problema o che quello che sto bevendo è merlot e non è il tavernello o simile. Quindi in realtà c'è questo aspetto della coscienza che ha a che fare con le sensazioni, con l'aspetto qualitativo delle sensazioni che chiamiamo qualia, che è del tutto peculiare anche perché le sensazioni sono soggettive e del tutto accessibili solo alla prima persona per via introspettiva. Voi mi potete dire di avere mal di denti ma io non posso saperlo in maniera diretta perché il mal di denti è accessibile soltanto alla prima persona, cioè al soggetto che la sta vivendo, in maniera diretta tramite quella che chiamiamo introspezione. Bene, la coscienza ha anche delle funzioni di organizzazione e integrazione dell'informazione. Quando noi percepiamo, percepiamo attraverso modalità sensoriali diverse, la visione, il tatto, l'olfatto, però noi non siamo consapevoli di queste sensazioni che vengono da vari canali in maniera diciamo disorganica. Noi diventiamo consapevoli di quello che percepiamo in modo già perfettamente organizzato, già integrato in maniera multisensoriale e organizzato in maniera spaziale e temporale secondo anche un flusso di coscienza che tiene conto della conoscenza di sfondo e della memoria. Ecco, molte teorie contemporanee si basano sull'idea che la coscienza sia primariamente una funzione di integrazione dell'informazione. Ok, qualche problema nello studio della coscienza che viene considerato particolarmente rilevante soprattutto nell'ambito della filosofia ma che ha delle ripercussioni anche in altri ambiti. Anzitutto la cosiddetta assimetria epistemologica. Ci sono due modi possibili di studiare la coscienza che appaiono però essere radicalmente diversi tra di loro. Anzitutto possiamo studiare la coscienza da una prospettiva di prima persona. Cioè possiamo studiare la coscienza così come questa appare a ciascuno di noi attraverso la percezione interna. Quindi la coscienza possiamo studiarla dal punto di vista di come ci appare, di come la viviamo. Oppure la possiamo studiare attraverso lo studio dei correlati funzionali e neurali della coscienza. La cosiddetta assimetria epistemologica nasce dal fatto che questi due approcci alla coscienza sembrano completamente diversi ed eterogenei tra di loro. Cioè studiare i correlati neurali della coscienza e studiare la coscienza così come questa si rivela a noi sul piano mentale sembrano due cose totalmente diverse che non hanno un reale punto di contatto. Questa cosiddetta assimetria epistemologica per alcuni autori prende proprio la forma di una sorta di explanatory gap, di gap esplicativo che è difficile da colmare. Questa storia dell'explanatory gap si può spiegare secondo me molto rapidamente e molto facilmente a partire da un vecchio sperimento mentale di Leibniz tratto dalla monodologia. Leibniz ci dice supponiamo di poter espandere un cervello, di poterlo gonfiare, e di poterci camminare dentro potendolo osservare. Oggi potremmo dire supponiamo di avere delle tecnologie che ci permettano di vedere il cervello in totale trasparenza, in vivo ovviamente, non durante un'autopsia. Che cosa vedremmo in questo caso camminando dentro un cervello? E la risposta è vedremo processi cerebrali, quindi vedremo processi che hanno a che fare con la materia. Oggi potremmo dire vedremo neuroni e sinapsi che propagano impulsi nervosi. Ma è tutto quello che c'è da dire della coscienza? La risposta che la filosofia, che molta parte della filosofia dà, è no. Cioè vedere le sinapsi e vedere i neuroni non è vedere la coscienza così come ciascuno di noi la conosce dal punto di vista della prima persona, da un punto di vista interospettivo. Ecco così che Chalmers, per esempio, sostiene che anche se chiarissimo fino in fondo i correlati neurali della coscienza, nessuna descrizione di tipo fisico del cervello potrebbe spiegare la coscienza così come noi la esperiamo introspettivamente in prima persona. Bene, e con questo concludo. Già questo brevissimo sketch di caratteristiche della coscienza che dovrebbe portarci un po' al centro della discussione di oggi evidenzia tre linee di quesiti principali che concernono questo argomento. Una prima linea è di carattere descrittivo e la domanda che si pone è cos'è la coscienza? Quali sono le sue principali caratteristiche? Una seconda linea di intervento invece è di carattere a che fare con l'origine della coscienza, cioè da dove deriva la coscienza? Qual è l'origine della coscienza? Cosa permette di realizzare la coscienza? Com'è possibile che la materia dia origine alla coscienza? E la terza domanda invece è di carattere funzionale ed è a che cosa serve la coscienza? Cioè qual è la sua funzione? Ha una rilevanza causale? Rispetto a che cosa ha una rilevanza causale? È diverso per un sistema essere o non essere cosciente? Potremmo immaginare delle creature cognitivamente identiche a noi ma alle quali manca la coscienza? A quel punto sarebbero davvero creature che funzionano come noi? Bene, queste sono le tre principali linee di intervento sulle quali si muove quantomeno la ricerca filosofica ma che a mio avviso servono anche un po' per disegnare il campo all'interno della ricerca empirica sia questa biologica, medica o neuroscientifica. Con questo concludo, vi ringrazio per aver ascoltato e direi che le domande forse le lasciamo alla fine così lasciamo che anche gli altri offrano i loro contributi e mettiamo poi insieme i risultati di tutto quanto. Grazie molte. Grazie a lei, professoressa dell'Antonio. Allora, adesso lascio la parola a Ludovica De Paulis che invece è una studentessa presso il CIMEC quindi a Roveretto insomma studia da noi a Roveretto e ha fatto una tenera di filosofia quindi ha approfondito molto questi temi in particolare sulla coscienza e quindi ci presenterà un po' quello che ha studiato approfondito nel tempo. Prego, Ludovica. Ciao, allora io come adesso Annie sono una collega della maggior parte di voi e appunto studio al CIMEC e il mio background è filosofico perché quello che voglio di cui voglio parlarvi oggi appunto la relazione tra coscienza e neuroscienza e coscienza e sensazione visuale in particolare come si inferisce nel dibattito della filosofia della mente di stampo analitico anglosassone quindi americana australiano e inglese. Partiamo da delle definizioni di tipo delle teorie diciamo generali a cui si appoggiano la neuroscienza e le intelligenze artificiali e i principi su cui si basano queste teorie e l'eventuale critica a queste teorie per poi giungere a degli argomenti che ci aiuteranno a capire meglio di che cosa si tratta la coscienza. La prima teoria che vi presenta è appunto quella del riduzionismo che è una teoria epistemica che chiarisce dei concetti appartenenti a una teoria riducendoli a concetti di una teoria presumibilmente perché è ritenuta più fondamentale. Quindi si tratta di ridurre un'entità o un evento A o un'entità o un evento di tipo B presumibilmente appunto perché l'entità B non può essere piegata se non in termini dell'entità A scusate l'entità A non può essere piegata in termini dell'entità B per cui è come se diciamo l'entità B fosse necessaria per spiegare l'esistenza dell'entità A. Come si dice Chalmers in The Conscious Mind che è appunto il libro scritto da lui il presupposto basilare del riduzionismo è la teoria dell'identità e ricordate che il riduzionismo è nato contestualmente nelle neuroscienze insomma degli anni 50 come appunto come io ho avuto questi anni 50 come data diciamo di fondazione perché è lì che è più o meno stata proposta la teoria di Hodgkin e Hodgkin e Ashley riguardo alla comunicazione tra neuroni però in realtà è il riduzionismo che riguarda tantissime altre scienze empiriche la teoria dell'identità la teoria dell'identità come dicevo prima è la base del riduzionismo e ci dice che tra due entità esistono relazioni di tipo egualitario quindi A uguale B quindi il riduzionismo dice che A è ridotta B perché fondamentalmente è uguale a B e specificatamente riguarda il rapporto mente-cervello ci dice che la realtà fondamentale è quella materiale ossia il cervello quindi la mente può essere spiegata solo in termini di cervello della teoria dell'identità abbiamo due versioni la versione type o delle proprietà o la versione token o istante la differenza tra type e token è molto semplice se prendete appunto il type inteso come proprietà ad esempio la proprietà dell'altezza sappiamo che esiste ma che può essere appunto istanziata da token che sono le istanze quindi un uomo può essere alto un albero può essere alto un edificio può essere alto quindi il token sarebbe l'uomo l'albero l'edificio la proprietà o il type sarebbe l'altezza quale delle due versioni assumiamo per rispondere a questa domanda dobbiamo domandarci ulteriormente che cos'è casualmente rilevante le proprietà o le istanze seguendo Crane in Elements of Mind noi consideriamo le cause come proprietà quindi ciò che è casualmente rilevante sono le proprietà e Crane fa un esempio molto significato secondo me perché dice se noi lanciamo un mattone per spiegare che cos'è causalmente rilevante rispetto alla proprietà o al token se noi lanciamo un mattone contro una finestra il vetro si rompe ma è il mattone in sé che ha rotto il vetro quindi è la causa della rottura del vetro oppure qualcos'altro in realtà non è il mattone in sé è il fatto che il mattone è il laterizio quindi è la proprietà fisica del mattone perché se il mattone può essere fatto in gomma più ma non sarebbe il mattone sarebbe la gomma fiuma che lo fa rimbalzare anziché rompere il vetro abbiamo tuttavia delle critiche a riduzionismo la critica più importante è stata proposta da Patnam in The Nature of Mental State e secondo lui se la teoria dell'identità fosse vera e se avessimo due creature che si trovassero nello stesso stato mentale diventano stato mentale di paura e lui fa l'esempio del polpo dell'uomo se un uomo è un polpo si trovassero nello stesso stato stato mentale di paura dovrebbero anche presentare lo stesso stato fisico ovviamente non è così perché innanzitutto il sistema nervoso dell'uomo del polpo è molto diverso soprattutto anche il modo in cui il dolore viene viene istanziato appunto dal sistema nervoso delle due creature è diverso per cui lui conclude che Patnam conclude che il correlato fisico-chimico di F è diverso per cui la teoria di identità di tipo type ovviamente è caduta l'altra posizione che vi presento è il funzionalismo ed è la dottrina secondo cui ciò che rende qualcosa uno stato mentale di un certo tipo dipende dalla sua organizzazione funzionale quindi dal modo in cui funziona ed è un'alternativa al riduzionismo tra l'altro proposta lo stesso Patnam che come ci fa notare Chalmers si basa sul principio di invarianza organizzativa quindi come abbiamo detto prima il riduzionismo si basava sulla teoria dell'identità invece il funzionalismo sul principio di invarianza organizzativa o di realizzabilità multipla secondo questo principio dato un sistema dotato di esperienza cosciente qualsiasi sistema avente la stessa organizzazione funzionale avrà esperienze qualitativamente esentiche ricordate di questo qualitativamente perché anche la professoressa dell'Antonio prima ha anticipato che le qualità l'esperienza qualitativa c'entra qualcosa con la coscienza e in questo caso noi vediamo per la prima volta un collegamento tra esperienza cosciente qualità e organizzazione funzionale come diciamo corollario del principio di invarianza organizzativa abbiamo che un'organizzazione funzionale può essere realizzata per mezzo di sistemi fisici diversi quindi nel caso se riprendiamo appunto un'analogia mente-cervello una mente può essere anche supportata non solo da un cervello ma da una qualsiasi da una qualsiasi supporto fisico che abbia la stessa organizzazione funzionale del cervello ad esempio una relazione orale implementata su un computer e infatti funzionalismo è nato in grembo e sull'informatica e in giro artificiale che sono diciamo esplosi dopo che Turing che è un matematico molto famoso inglese nel 1950 quella rivista Mind ha pubblicato un articolo dal titolo veramente disturbante cioè le macchine possono pensare e ha inventato addirittura questo test il test Turing che si basa sul gioco dell'imitazione ovvero se le macchine sono in grado di imitare il comportamento dell'uomo esse pensano come l'uomo questo test e la relativa teoria che Turing comunque ha supportato sono ciò che sta alla base tutt'oggi dell'intelligenza artificiale forte che è una corrente di pensiero filosofica e non solo che supporta la capacità delle macchine dell'intelligenza artificiale di poter implementare funzioni mentali di tipo alto quindi ad esempio anche la coscienza e vi ho messo due immagini per capire di che tipo di ricerca stavamo parlando per esempio von Neumann l'architettura di von Neumann e la macchina di Turing sono due tipi di architetture che appunto erano state inventate che erano state studiate all'epoca e quelle che oggi danno la base che sono la base dell'informatica moderna e addirittura la macchina di Turing vi faccio notare era dotata di quattro stati come i nostri stati mentali che dovevano riprodurre i nostri stati mentali anche il funzionalismo è stato passibile di critica perché alcuni filosofi hanno rivisto nel funzionalismo una nuova versione della teoria dell'identità e come Crane sempre Crane ci dice in Elements of Mind il funzionalismo tipicamente tenta una definizione riduzionista delle nozioni mentali perché vediamolo un attimo cerchiamo di spacchettare l'argomento le proprietà funzionali quindi ricordatevi sempre di proprietà si parla perché sono quelle causalmente efficaci le proprietà funzionali secondo il funzionalismo necessitano di un strato fisico di base questo perché non è possibile pensare a una mente senza un strato fisico che sia organizzata in un certo modo dall'altra parte le proprietà funzionali dipendono dai proprietà fisiche cioè siccome le proprietà funzionali sono comunque supportate da un strato fisico adesso il strato fisico ha anche delle proprietà fisiche che sono le cosiddette proprietà di primo ordine e siccome le proprietà funzionali dipendono da queste proprietà fisiche di primo ordine vengono dette proprietà di secondo ordine si ottiene dunque una teoria di tipo di second ordine che è già accaduta perché riguarda le proprietà di secondo ordine che vengono ridotte al strato fisico e che quindi chiaramente rientrano in tutta la critica che abbiamo visto prima della teoria dell'identità per riprendere l'esempio del mattone e dell'aterizio nel caso della teoria dell'identità che abbiamo visto prima c'era questo problema dell'essere l'aterizio del mattone che causa la rottura del vetro quindi causamente efficace è l'essere l'aterizio del mattone il suo sostrato fisico in questo caso lo sono le proprietà di secondo ordine funzionali ovvero il fatto una certa accelerazione impressa e via dicendo a questo punto giungiamo a questo patidico dubbio cioè come spiegare l'autonomia della mente se non dipende da un sistema scientifico e neanche dalla sua organizzazione funzionale osserviamo che due fenomeni tipicamente sfuggono alla dipendenza causale sempre da un sostrato fisico ma anche dalla riproduzione della coscienza della mente su un supporto artificiale la prima è l'intenzionalità che l'intenzionalità non è altro che una collezione di stati mentali rappresentativi che sono una manipolazione di simboli cioè noi intenzioniamo una serie di stati di rappresentazioni che appunto diventano simboli all'interno della nostra mente notare che questo è un tipo di operazione consapevole cosciente ed ecco che arriviamo alla seconda parte cioè il secondo fenomeno che sfugge è appunto la coscienza che è stato si è detto che si dice tuttora io condivido assolutamente che è un fenomeno talmente ovvio a tal punto che non si riesce a definirlo per cui se fugge a definizioni in realtà esistono anche dei dispositivi chiamati esperimenti mentali o semplicemente argomenti che possono aiutarci a capirne e a provarne l'esistenza così come l'autonomia e adesso mi presento tre molto famosi il primo è la stanza cinese di Searle del 1980 e la Searle diciamo è un è un filosofo un cognitivista che vuole rispondere alla famosa domanda che Turing aveva fatto nel 1950 cioè le macchine possono pensare in modo tale da proporre un argomento contro l'intelligenza territoriale forte che Turing ha diciamo sloganato all'interno del panorama soprattutto informatico e filosofico lo scenario è questo Searle si immagina all'interno di una stanza e deve comunicare in cinese con qualcuno all'esterno di questa stanza ha un canale di input in cui gli vengono presentati i caratteri cinesi un canale di output questo qua in cui deve inserire la risposta scritta in cinese e poi questo dizionario delle regole il dizionario delle regole non è altro che un insieme di regole appunto tali per cui ad ogni segno ad ogni simbolo scusate cinese che ad ogni pictogramma che gli viene presentato come input ne corrisponde precisamente un altro come output quindi una volta che Searle ha il suo input va a vedere sul dizionario a quale a quale simbolo corrisponde insomma per scrive i simboli su un foglio li mette come output e quindi lui è in grado di comunicare con la persona all'esterno ma quindi la stanza sa pensare questa è la domanda cruciale evidentemente no nel senso che ci sono diverse implicazioni la stanza non sa pensare perché innanzitutto non ha idea di che cosa stia facendo ovvero non ha semantica i simboli non hanno significato per la stanza non ha idea di quello che sta facendo e questo ti dice che le regole di sintaxe ovvero le regole per comporre una frase in risposta quindi una frase output in risposta alla frase input comporre simboli appunto seguendo le regole sintaxiche non significa dare un significato o addirittura capire il significato e come abbiamo detto prima parlando di intenzionalità manipolare simboli non significa pensare manipolare simboli in maniera cosciente e motivata invece sì in questo caso non c'è nessun tipo di coscienza perché la stanza appunto non è consapevole di cosa sta facendo il secondo argomento è ciò che Mary non sapeva di Frank Jackson di un paio di anni più tardi di quello di Searle lo scenario è insomma è un altro tipo di scenario e presenta appunto questa neuroscienziata che si chiama Mary che ha sempre studiato e vissuto all'interno di una panza in bianco e nero quindi senza mai vedere colori notate che Mary è una neuroscienziata che conosce tutto specializzata sulla visione conosce tutto ciò che riguarda la visione a livello di meccanismi neurofisiologici a livello di localizzazione all'interno della corteccia visiva i vari stati della corteccia visiva l'input l'occhio tutto quello che avviene per quanto concerne la visione quindi si può dire che Mary abbia una conoscenza completa rispetto alla visione un giorno però a Mary viene permesso di uscire all'esterno della stanza e vede per la prima volta un fiore di colore rosso e la domanda è Mary adesso ha qualche conoscenza in più sulla visione ha aumentato la conoscenza vedendo il rosso il colore del fioe per la prima volta la risposta secondo questa che vorrebbe suscitare questo argomento è sì Mary aumenta la sua conoscenza sui colori vedendo i colori per la prima volta e questo è un'esperienza di tipo qualitativo quindi un fenomeno di tipo qualitativo che si chiama appunto che viene appunto chiamato in periodo della mente qualia e i qualia sono proprietà fenomenologicamente consce degli stati mentali quindi qualcosa che si manifesta a livello cosciente degli stati mentali quindi noi siamo in grado di capire che stiamo vivendo un esperimento di tipo qualitativo e come ho detto prima è una proprietà una proprietà imprescindibile una diciamo una proprio una caratteristica imprescindibile della coscienza sono diversi dai dati quantitativi quindi non si possono quantificare e sono soprattutto come ho detto prima esperienze coscienti e soggettive appunto la soggettività dell'esperienza della coscienza un ultimo argomento che è ancora precedente a questi due che si chiama che è intitolato Che cosa vuol dire essere un pipistrello di Thomas Nagel e lo scenario che ci viene presentato è questo qua ricordate che questo in realtà è un argomento proprio fatto per mettere l'ascoltatore e il lettore nei panni di qualcuno che ragiona ecco sul fenomeno della coscienza per cui lo scenario è questo Nagel ci dice provate a dare un uomo e un pipistrello vi prenderò un pipistrello perché effettivamente sono due mammiferi quindi comunque sono lo stesso ramo diciamo così però funzionano in maniera abbastanza diversa da poter essere comparati l'uno con l'altro funzionano in maniera diversa prima di tutto per il modo in cui si muovono all'interno dello spazio quindi l'uomo cammina il pipistrello vola e anche per il modo ad esempio in cui riconoscono navi si orientano nello spazio quindi l'uomo per lo più usa la vista il pipistrello per lo più usa l'ecolocalizzazione la domanda che si pone noi potremmo possiamo sapere che sappiamo che cosa significa essere un pipistrello no lui dice noi possiamo solo immaginarlo ma non sapremo mai che cosa significa essere un pipistrello perché abbiamo dei limiti che sono posti della nostra stessa mente questi sono limiti in particolare di tipo cognitivo e di tipo linguistico limite cognitivo perché appunto la nostra stessa mente umana ti impedisce di avere una conoscenza di tipo qualitativo di che cosa significa essere un pipistrello quindi coscienza di essere un pipistrello linguistico perché come abbiamo detto prima la coscienza è a prescindere un'esperienza indefinibile difficile da comunicare difficile da esprimere da proprio da circoscrivere e quindi soprattutto a maggior ragione che parliamo di una coscienza di un animale questo argomento come parolario si contrappone anche alla visione materialistica perché appunto ci dice che un sostrato fisico non garantisce un certo tipo di coscienza infatti poi proseguendo nell'argomento Negel dice se anche io dovessi trasformarmi in gradualmente in un pipistrello quindi le mie gambe si trasformassero in zampe poi le mie braccia in ali poi iniziassero a orientarmi con l'ecologalizzazione anche se gradualmente diventasse un pipistrello comunque non avrei coscienza di cosa significa essere un pipistrello perché la somma delle parti del mio corpo non è sufficiente per farmi capire che cosa vuol dire per avere coscienza di che cosa vuol dire essere un pipistrello quindi conclusione che facciamo sulla coscienza che è indefinibile ma in qualche modo dimostrabile dimostrabile non a livello empirico chiaramente ma intuibile ok è una collezione di esperienze o dati qualitativi e soggettivi quindi qua anche il problema della simetria epistemica che citava la professoressa dell'Antonio necessita di un suo stato fisico che garantisce il qui ed ora quindi un continuo spazio temporale ma non è funzionalmente legato adesso quindi c'è sì il suo stato fisico ma non è il suo stato fisico non è la causa della residenza della coscienza semplicemente la supporta e infine sembra ben consistente con un'intelligenza artificiale di tipo forte e ovviamente anche come ridotta al semplice e puro funzionamento cerebrale detto questo io vi ringrazio e vi ho anche messo una bibliografia poi insomma libri e articoli che ho citato che sono molto interessanti che vi invito a leggere se siete interessati all'argomento e ringrazio anche i ragazzi di Unitim che si sono sforzati tantissimo per rendere questo incontro accessibile a tutti tutto ben organizzato e niente se avete domande o se volete le slide o le fotografie contattatemi grazie esatto poi le domande alla fine lasceremo spazio adesso faccio parlare il professor Marcello Massimini se vuole condividere delle slide e prego e il professore è mutato grazie a tutti grazie Scusate, mi si era bloccato tutto. Ci sono. Arrivo, condivido e parto. Va benissimo. Allora, scusatemi. Eccoci qua. Mi vedete, mi sentite? Sì, vediamo e sentiamo. Ok, perfetto. Tanto per cominciare, grazie e complimenti, perché nella mia modestissima esperienza, ma introduzione filosofica, fu così sintetica e centrata. Per cui mi aiuta tantissimo, perché molti dei concetti che avete esposto li riprendo, ovviamente, dal punto di vista di un neurofisiologo, cioè di uno che osserva questo sistema fisico e cerca di fare delle misure. E in particolare quello che vi propongo è un viaggio, un po' un tour de force sintetico, nel cervello, nella materia del cervello, alla ricerca della coscienza. In pratica, questa traiettoria risponde a una delle domande che avete sollevato, cioè come fa questo sistema fisico a volte a generare coscienza, a volte no. Infatti, diciamo, con gli strumenti dell'elettrofisiologia, delle neuroscienze, dell'imaging abbiamo capito tantissime cose sul cervello, non le sto ad elencare, dall'organizzazione del movimento, l'encoding delle memorie, la percezione dei colori, tutto quanto. Poi rimane un mistero fondamentale, cioè a volte l'attività del cervello cambia, a volte anche in modo non particolarmente significativo e noi non esistiamo più e l'intero universo collassa. Succede tutte le notti, quando ci addormentiamo, entriamo in una fase profonda N3 di sonno senza sogni, succede quando ci viene somministrato un anestetico e purtroppo succede anche a seguito di lesioni cerebrali. Quindi capire i meccanismi del recupero, della perdita del recupero di coscienza nel cervello fisico è fondamentale, cioè non è solo una esigenza, se vogliamo, esistenziale o scientifica, ma è anche un problema clinico ed etico, perché se non lo facciamo, se non lo capiamo e se non impariamo a misurare questi meccanismi, rischiamo addirittura di non vedere la coscienza nei nostri simili in alcuni casi. Allora, il viaggio che vi propongo è un viaggio alla ricerca di misure più affidabili e anche un po' alla ricerca dei meccanismi di perda e recupero di coscienza. Quindi partirò dalla superficie, vi faccio vedere come si possono sviluppare misure oggi che sono abbastanza affidabili, sono misure di complessità cerebrale che ci danno degli indici che sono molto utili nella clinica, vi farò vedere anche come tendenzialmente la scienza della coscienza sta convergendo su questo tipo di misure, nonostante divergenze teoriche empiricalmente si converge, e poi andremo un attimino, ma proprio un attimino, all'interno del cervello per capire quali sono anche i meccanismi di perdita e recupero di complessità e perdita e recupero di coscienza. Ovviamente questo è importante se vogliamo davvero poi aiutare anche i pazienti a recuperarla. Quindi sicuramente toccherò dei temi filosofici, tanta neurofisiologia e un po' di clinica. Partendo dalla clinica, e qui non dirò più di tutto perché poi il professor Sozzi vi parlerà estesamente di questo, è un tema molto interessante, come facciamo tipicamente a decidere se qualcuno è cosciente o meno. Allora, secondo me siamo un po' agnostici rispetto ai meccanismi interni, intrinseci al cervello, trattiamo il cervello come una scatola nera e lavoriamo su input e output. E quello che facciamo è terapia intensiva, pronto soccorso, eccetera, somministriamo degli input sensoriali al paziente e poi osserviamo gli output motori. Se questi sono consistenti, riproducibili, finalizzati, diciamo che è cosciente. Lo facciamo utilizzando delle scale che poi vi verranno spiegate. Funzione. Questo è il gold standard, tipicamente funziona soprattutto quando i soggetti rispondono. Il problema è che a volte può capitare che il soggetto sia cosciente, capisca benissimo l'input che gli viene dato, ma non riesce semplicemente a esprimere nulla perché è paralizzato. Ci sono diversi modi di essere bloccati sul versante dell'output, ci sono mille modi. Uno classico è la sindrome locked-in, per esempio, di cui avete sicuramente sentito parlare, per cui banalmente una lesione nella porzione ventrale del ponte blocca la maggior parte delle fibre che dalla corteccia vanno al midollo spinale e i soggetti sono paralizzati. Capiscono, vorrebbero muoversi, ma non riescono. Per fortuna questa sindrome è spesso sotto la lesione, sotto il terzo nervo cranico, che rimane come unico esile canale di comunicazione per cui i soggetti possono fare movimenti oculari verticali o fare blink, per cui prima o poi riescono a comunicare che sono coscienti. Ma un tempo, adesso c'è molta più attenzione nei confronti di questo problema, però un tempo magari passavano settimane o mesi. Purtroppo poi, quando questo accade, il paziente può esprimere molto, incluso questi bellissimi liquidi. A volte purtroppo però accade che i pazienti si configurano una sindrome di locked-in totale, dove neanche questo canale è disponibile. Se ci pensate bene, questa è una situazione molto paradossale, ma reale, in cui il paziente non riesce a far sapere fuori che lui c'è. D'altra parte, non solo gli output sono un problema, il blocco degli output, in alcuni pazienti sono gli input a essere bloccati. Anche questo può avvenire a diversi livelli, a livello delle vie di senso, a livello delle cortecce sensoriali e così via. Per esempio, questo è un paziente che ha una lesione sinistra, per cui ha fasico, non capisce i comandi verbali, e ha anche una lesione, non so se qua si vede o no, non si vede nel tronco encefalico, per cui anche la trasmissione di altre modalità è compromessa. Questi sono pazienti difficili. Questo paziente non risponde perché fa fatica a elaborare l'input che gli viene dato. Di fatto, la terapia intensiva ha fatto progressi, e adesso salva tante persone, grazie alla respirazione artificiale e tutti gli altri supporti che 50 anni fa non sarebbero sopravvissute. La conseguenza è che però sopravvivono anche cervelli che prima non esistevano. E a volte queste sono delle isole di tessuto corticale, talamo corticale, a volte l'emisfero destro, a volte il sinistro, a volte la parte posteriore del cervello, a volte strane configurazioni, arcipelaghi, di isole che sono strutturalmente intatte e metabolicamente attive in un mare di devastazione e spesso disconnesse da input e output. Abbiamo esaminato il problema di queste isole di coscienza insieme a Daniel Seth e a Tim Bain, che è un filosofo di Monash University, però da un punto di vista più, diciamo, teorico, se vogliamo, etico-filosofico. Però questo è un problema che si pone davvero, ed è un problema pratico perché i pazienti potenzialmente in questa condizione di coscienza disconnessa, isole di coscienza non accessibili da fuori, sono tanti, circa la dimensione di una città solamente negli Stati Uniti. Cosa si prova a essere un grosso pezzo di cervello, o anche tutto il cervello disconnesso da input e output, è difficile dire dalla prospettiva estrinseca di un approccio input-output. Quello che sappiamo sicuramente è che la coscienza può essere presente nel cervello senza che venga scambiato un bit di informazione con l'esterno, perlomeno hic et nunc. Questo succede tutte le notti, ancora, però quando sogniamo. C'è una certa porzione della notte, che non è solo REM, ma anche alcuni stadi, tipo l'N2, addirittura a volte in alcuni punti dell'N3, in cui si sogna. E questa coscienza, vivida, intensa, dolorosa, gioiosa, dipende, è generata tutta dentro il cranio. Quindi, di fatto, produciamo isole di coscienza, sappiamo che la coscienza può essere generata dentro il cervello, ma non abbiamo sviluppato misure che siano indipendenti da input e output. E non è facile sviluppare queste misure, anche se è chiaramente un'urgenza. Si è provato? Cioè, ovviamente, ci sono dei candidati empirici che si sono presi in considerazione, però, li abbiamo anche rivisti ultimamente, insieme a Christophe Koch, Giulio Tononi e Melanie Bolli, siamo ancora lontani dal target, nel senso che questi candidati, queste misure empiriche, funzionano a livello di gruppi, funzionano in media, ma poi, quando si passa ai singoli soggetti, in diverse condizioni, e soprattutto ai soggetti con lesioni cerebrali, diventano molto, molto meno affidabili. Vi faccio degli esempi, anche qui potrei andare avanti 20 minuti a fare esempi. Livelli di attività cerebrale. È stato preso in considerazione, no? Il cervello silente è incosciente, uno molto attivo è cosciente, e uno così così è cosciente a livello intermedio. Ci sono mille esempi e mille eccezioni a questa regola, che non è per uno una regola. Uno, per tutti, è l'epilessia. Vi faccio vedere un filmino, che ho ricevuto da Al Blumenfield, che è un epilettologo di New York, al tempo zero c'è perdita di coscienza. Il metabolismo esplode nei circuiti frontoparietali, in questo soggetto, e poi, quando il soggetto riprende coscienza ora, il metabolismo va giù. Cioè, è l'opposto di quello che uno si aspetterebbe. Quindi, sì, certo, in media, il metabolismo ci vuole, i neuroni devono essere attivi, ma non c'è una relazione lineare, e non potremmo mai costruire una metrica della coscienza, semplicemente guardando l'attività neurale. Altro esempio, forse un po' più interessante, è quella della sincronia. Questo è un'ipotesi che viene dal fatto, da un'osservazione intelligente, cioè, quando noi percepiamo qualcosa, un volto, dobbiamo mettere insieme diverse features, avete parlato prima di integrazione, e il correlato neurale di questo binding è il fatto che diverse popolazioni neuronali, anche lontane, si sincronizzano tra loro. Quando si sincronizzano, hanno relazioni temporali, si può inferire che stanno comunicando. E quindi, da qui l'idea che la sincronizzazione possa essere un marker efficace della coscienza. Quando c'è sincronizzazione, c'è coscienza. Quando non c'è, non c'è integrazione, e non c'è coscienza. Ancora, ci sono tanti esempi, che, diciamo, negano fondamentalmente questo postulato, però quello più calzante, forse ancora, viene dall'epilessia. Nell'epilessia si ha iper-sincronia e perdita di coscienza. Iper-sincronia su larga scala, anche in frequenze veloci come il gamma, quelle tipicamente ritenute importanti per la coscienza. In sostanza, ripeto, qui taglio corto, ma per dire, non è facile trovare misure che siano interamente basate sull'attività cerebrale e che correno bene con la presenza e l'assenza di coscienza. Qui faccio un passo indietro, e faccio un passo indietro perché vi voglio sottolineare un articolo che è stato pubblicato vent'anni fa e che ci ha molto aiutato e alla fine, vi farò vedere, non ha aiutato solo noi, ma che è molto utile per risolvere questo problema. L'articolo è stato scritto da un vostro, tra virgolette, concittadino, Giulio Tononi, di Trento, in origine, insieme a Gerard Edelman, e si intitola Conscious and Complexity. Ai tempi era un'idea nuova e rivoluzionaria. Cosa diceva? Diceva, ma tanto per cominciare, prendiamo, partiamo un po' da la fenomenologia della coscienza e definiamo quali sono due proprietà fondamentali. Non chiamiamoli neanche assiomi, sono due proprietà che comunque caratterizzano ciascuna esperienza cosciente. Sono l'esperienza cosciente, qualsiasi esperienza cosciente, è unitaria e allo stesso tempo differenziata, nel senso ricca di informazione, non tanto per quello che è, ma anche quando noi speriamo puro buio e silenzio, è ricca di informazioni questa esperienza per tutte le esperienze che sarebbero potute accadere e che non accadono, in questo senso, l'informazione o la differenziazione. Da qui, taglio ancora molto corto, brutalmente, l'articolo dice, ma non dovete misurare quanti neuroni ci sono, quanto sono attivi o semplicemente la sincronia, ma dobbiamo misurare questo bilancio tra unità e diversità nel cervello, che chiamiamo d'ora in poi complessità. Poi questa idea si è evoluta ulteriormente in questa teoria dell'informazione integrata molto dibattuta, ma prendiamo per buona quest'idea di vent'anni fa e questa, secondo me, è un'idea buona e originale. E sostanzialmente cosa suggerisce? Molto metaforicamente, suggerisce che c'è una specie di orchestra, se Tononi sentisse come la descrivo, probabilmente, ecco, spero che non senta mai questa descrizione, però lo faccio così proprio per andare veloce, è come se ci fosse un'orchestra dove sono diversi strumenti con diversi spartiti, ognuno con una sua specificità, quindi questo substrato fisico molto ricco e differenziato, che allo stesso tempo si ascolta e interagisce causalmente. E quello che bisogna misurare è la capacità di quest'orchestra, la differenziazione e l'unità dell'orchestra. Un modo, sempre metaforicamente parlando, di dare là a uno strumento, a un gruppo di strumenti e vedere che musica esce. E fondamentalmente, in termini un po' meno metaforici, si tratta di stimolare direttamente sul strato della coscienza, bypassando via di moto e via di senso, che abbiamo visto possono essere bloccate, per misurare la ricchezza, la complessità delle interazioni causali interne. Questa è l'idea, come si fa? Si può fare, perlomeno approssimativamente, utilizzando una combinazione di stimolazione magnetica transcranica e di elettroencefalografia. L'idea, banalmente, qual è? Se noi osserviamo delle risposte che sono locali, solamente locali, inferiamo che non c'è integrazione. E dunque, la predizione sarebbe che in questi casi non c'è coscienza. Se viceversa, registriamo una risposta che è un boato, tutti gli strumenti suonano ma fanno la stessa musica, un po' tutto nulla, inferiamo che forse sì, c'è integrazione ma non c'è differenziazione. Se invece registriamo una risposta complessa, una dinamica spazio-temporale complessa, questo è il segno extracranico che all'interno ci sono delle strutture causali complesse dove diversi elementi si attivano a tempi diversi in modo causale come un tutt'uno. Questa è un po' la predizione detta brutalmente. E come si fa a misurarla di fatto? Vi faccio vedere un esempio del setup dove vedete qui molti di voi sono familiari con la TMS anche perché al CIMEC voi avete Carlo Minussi che è stato un pioniere di questa tecnica quindi la TMS stimola direttamente la corteccia cerebrale poi abbiamo un sistema di navigazione che ci dice esattamente cosa stiamo stimolando quanto forte ci consente anche di essere riproducibili in misure longitudinali e poi l'elettroencefalogramma che registra questi potenziali evocati cortico-cortico-cortico è un po' come bussare direttamente sulla corteccia cerebrale e sentire il rumore che fa sempre stando su questa metafora un po' sonora e in questo modo possiamo misurare la complessità in un modo teoricamente rilevante approssimato ma rilevante cosa succede in realtà? allora in veglia se prendiamo il caso familiare di perdita di coscienza da veglia al sonno quello che registriamo è questo stimoliamo localmente abbiamo una risposta globale che coinvolge molti elettrodi dunque molte parti del cervello ognuna delle quali risponde in modo differenziato vedete che le tracce sono tutte diverse se andiamo a vedere diciamo il corrispettivo spazio temporale di questa attivazione facendo source modeling vedete che c'è un'attivazione prima locale e poi c'è questo pattern interessante di interazioni causali queste sono interazioni causali non sono correlazioni perché noi abbiamo perturbato e vediamo gli effetti della perturbazione quindi sono vere interazioni ma vedete soprattutto che sono complesse non sono facili da descrivere e durano circa 300 millisecondi che non è poco per il cervello quindi abbiamo attività a lunga distanza diverse latenze diverse aree diventano attive a tempi diversi qui la latenza è codificata in colore cosa succede quando un cervello si addormenta qui c'è un primo paradosso interessante che è controintuitivo se uno bypassa le vie di senso vede che a differenza quindi dei potenziali evocati sensoriali le risposte corticali sono più grandi in sonno ma sono esplosive e un po' più semplici vedete un'onda positiva negativa e se uno va a vedere la corrispondente attivazione neuronale quello che vede è un cambio radicale si è modularizzato il cervello praticamente la risposta il centro di massa la risposta è locale e non propaga più il che è incredibile perché il sistema fisico è lo stesso non è cambiato strutturalmente il cervello qualcosa però è cambiato che ha ucciso completamente l'integrazione il che ci sta con questa idea degli strumentisti che non si ascoltano più se uno stimola più forte perché è legittimo dire ma magari i neuroni sono un po' iperpolarizzati un po' pigri se spingo forte vinco questa iperpolarizzazione e vedrò complessità anche in sonno in realtà il risultato migliore che si ottiene picchiando duro con la TMS è una risposta che è più grande ma sempre semplice è sempre quest'onda positiva negativa che questa volta però propaga nel cervello come se fosse a macchia d'olio in modo molto omogeneo e infatti qualitativamente la situazione sembra essere un po' questa quindi non c'è verso che ci sia questo equilibrio tra diversità e unità nel cervello incosciente durante sonno beh questo è stato il primo esperimento che ci ha convinto a farne altri tanti altri e a spendere 15 anni praticamente la nostra attività a testare tutte le possibili situazioni accessibili in cui la coscienza c'è o non c'è qui ci sono alcuni esempi nel riquadro rosso vedete situazioni in cui la coscienza c'è e sappiamo che c'è perché lo possiamo chiedere ai soggetti o perché sono svegli o perché nonostante una lesione cerebrale ce lo possono comunicare o perché magari non erano responsivi al momento della misura ma quando si svegliano gli chiediamo un delayed report quindi gli chiediamo cosa ti passava per la testa e il soggetto risponde ah stavo sognando questo e quello quindi abbiamo wakefulness diversi tipi di lesione il sonno REM e poi lì vedete la chetamina perché la chetamina? perché la chetamina è interessante è un anestetico dissociativo ve la faccio breve in cui il soggetto può subire chirurgia è disconnesso completamente dall'ambiente circostante se li facciamo la coma recovery scale è come se fosse in stato vegetativo ha pure gli occhi aperti ma ovviamente non è responsivo ma è cosciente cioè è in uno stato allucinatorio molto molto intenso tanto è vero che la chetamina si usa poco proprio per questa ragione quindi abbiamo anche incluso in questa benchmark stati di coscienza disconnessa che è molto importante e vedete qua a occhio che le risposte sono sempre complesse cioè tutte le volte che abbiamo fatto misure e poi i soggetti erano coscienti o perché ce lo dicevano subito o dopo abbiamo trovato un'altra complessità anche questo è incoraggiante al contrario in tutti i casi in cui la coscienza non c'era il soggetto si svegliava e diceva io non mi ricordo niente non esistevo vedete queste risposte semplici che sia anestesia con midazol amprofor seno o sonno a questo punto incoraggiati da questo benchmarking da questa specie di calibrazione siamo andati al letto del paziente qui non sappiamo qui pazienti che non sono responsivi come abbiamo detto potrebbero essere coscienti e quindi bisogna fare un'inferenza utilizzando queste misure fisiche non c'è altro da fare cosa succede qua? allora qui prima di tutto abbiamo sviluppato una misura perché in medicina ci vogliono delle misure quantitative di complessità fondamentalmente la misura implica ovviamente stimolare il cervello registrare fare queste mappe di attività spazio-temporale con una buona statistica binarizzare queste mappe per cui spazio e tempo attività nello spazio e tempo diventano uni e zeri attivo o non attivo e poi l'idea è di comprimere zippare ovvero calcolare la complessità algoritmica di queste matrici e l'idea è che se c'è sia integrazione che differenziazione queste matrici saranno larghe e non comprimibili perché non sono ridondanti e quindi alta complessità quindi da qui questo indice che si chiama perturbational complexity index che abbiamo prima calibrato nelle condizioni che vi dicevo prima quindi abbiamo utilizzato un ground truth per fare la calibrazione dell'indice e per validarlo dopodiché abbiamo derivato da queste distribuzioni che notate sono molto diverse tra coscienza e inconscienza per cui funziona bene in benchmark abbiamo derivato un cut off che abbiamo utilizzato per vedere poi cosa succedeva nei pazienti il primo test è stato quello dei pazienti in stato di minima coscienza questi sono pazienti che come vi dirà poi dopo Matteo sono pazienti difficili da valutare perché rispondono a volte sì a volte no e spesso sfuggono sia alla diagnosi comportamentale ma soprattutto sfuggono alle misure dirette di attività cerebrale nel senso che queste misure hanno tipicamente bassissima sensibilità qui cosa succede succede che nella maggior parte di questi pazienti il 94% noi vediamo alta complessità il che è un grande passo avanti dal punto di vista della sensibilità delle misure di cui disponiamo poi siamo andati a vedere cosa succede invece nei pazienti in stato vegetativo cioè il vero target di cui non possiamo dire niente sulla base del comportamento e qui le cose sono molto interessanti perché vediamo che ci sono sì dei pazienti a bassa complessità che sono in uno stato di complessità simile a quello dell'anestesia incosciente del sonno incosciente ma vediamo che ce n'è circa un 20% che sono nel range della complessità che tipicamente troviamo solo quando è presente coscienza sia questa disconnessa o meno da qui l'ipotesi che questi pazienti vadano trattati in modo diverso non è solo un'ipotesi perché poi abbiamo verificato che questi pazienti hanno traiettorie diverse vi faccio un esempio prendiamo due pazienti che sono tutti e due non responsivi paziente 1 paziente 2 e apriamo la scatola nera stimolando il loro cervello vediamo che paziente 1 ha un'alta complessità il 2 una complessità bassa vi faccio un esempio di traiettoria di paziente 1 questa qui ovviamente l'idea è che se c'è alta complessità la coscienza o una capacità di coscienza c'è non è espressa per problemi di input-output o anche blocco delle funzioni esecutive per diverse ragioni adesso vi faccio vedere un esempio di come questo può accadere questa è una paziente abbastanza recente che abbiamo studiato in cui una lesione non grossa ha colpito il tronco encefalico particolarmente il mesencefalo e la paziente era in stato vegetativo e l'ho rimasta per diversi mesi durante tutto questo periodo misure ripetute hanno fatto vedere alta complessità e quindi ovviamente essendo anche la paziente giovane rimane un problema un dubbio abbiamo poi visto che questa lesione coinvolgeva la sostanza nera che rilascia dopamina sui nuclei della base e i circuiti frontali quindi abbiamo postulato non uno stato vegetativo ma sulla base della complessità abbiamo detto stai a vedere che c'è un problema di funzioni esecutive tipo Parkinson estremo quindi con la dottoressa Comanduce il dottor Orgia Navarro ad ogni occhi si è deciso di somministrare amantadina a questa paziente che spinge i nuclei della base risultato che dieci giorni dopo la somministrazione di amantadina questa paziente riusciva brava l'altra a fare questo ok bene pollice di nuovo l'indice ottimo l'indice ancora testi che riesce a muovere l'indice brava molto bene il medio ok ok il pollice sempre più difficile bravissimo l'ho visto notevole nel senso che a questo punto la paziente era in grado di rispondere e poi è stata in grado di comunicare e questo fondamentalmente avere un indice affidabile cambia le traiettorie di questi pazienti avrei altri esempi ma per questioni di tempo non approfondisco a destra invece c'è un paziente a bassa complessità qui ovviamente la situazione è molto più difficile perché c'è qualcosa che non va nel sistema talamocorticale bloccato in uno stato simile al sonno all'anestesia e l'idea qui è di restituire la complessità questo è importante perché molti pazienti hanno pezzi di cervello molto grandi metabolicamente attivi ma bloccati in questo stato a bassa complessità simile al sonno e altri d'altra parte partono così e poi nel giro di settimane e mesi recuperano la complessità interna e poi dopo recuperano anche coscienza quindi è chiaro che ci si chiede che cosa succede che cosa cambia e possiamo aiutare questi pazienti quindi perché la complessità si perde e si ritrova nel cervello questo ci riporta un po' alla questione del sonno che è sempre un buon modello perché dopo tutto nel sonno la complessità si perde la coscienza si perde ma il cervello strutturalmente è sempre uguale nessuno taglia le sinapsi qui faccio solo una specie di piccola così pillola siamo penso vicini a capire perché cioè cosa uccide la complessità e produce queste onde lente per capirlo siamo andati a fare delle registrazioni un po' particolari quindi abbiamo combinato qui a Milano riguarda le registrazioni intracraniche e le stimolazioni intracraniche con registrazioni ad alta densità extracraniche penso che questi siano i soggetti il cui cervello è più registrato al mondo quindi abbiamo elettrodi fuori e vedete queste cose nere sono elettrodi che vanno dentro fino a 150 contatti che vanno dentro il cervello così abbiamo da una parte e possiamo stimolarli anche questi elettrodi quindi da una parte abbiamo il readout esterno che ci parla della complessità dentro possiamo vedere un pochettino meglio cosa fanno i neuroni e possiamo connetterle due cose vi faccio un esempio quindi stimoliamo dentro e registriamo sia dentro che fuori fuori vediamo passaggio da veglia sonno la solita perdita di complessità dentro vediamo una cosa molto interessante fidatevi di me vediamo che in sonno i neuroni dopo l'attivazione dopo una attivazione iniziale si spengono questo blu è un silenzio neuronale poi riprendono l'attività in modo stocastico come se fosse un reboot e tutte le interazioni causali sono perdute questo è un killer per la complessità sappiamo bene anche quali sono i meccanismi di questo silenzio perché è anche un meccanismo tipico che è il meccanismo tipico che sottende le onde lente del sonno quindi possiamo capitalizzare su una letteratura immensa del sonno per capire questa cosa tanto più che questo è rilevante per i pazienti in stato vegetativo perché non solo nel sonno fisiologico se hanno questo silenzio neuronale perdita di complessità questo soggetto sano che dorme ondona e silenzio neuronale ma anche nei pazienti in stato vegetativo e questo è molto molto interessante soprattutto perché i pazienti che recuperano piano piano si liberano di questo silenzio neuronale e recuperano complessità quindi qui sicuramente c'è parecchio da lavorare siccome non ho tempo di dire niente su questo ma è l'argomento che mi piace di più alla fine vi rimando ad alcuni articoli sui meccanismi recenti che sono interessanti questo dice che quando c'è una lesione cerebrale c'è una quota di cervello che se ne va a dormire questo dice che non solo la parte vicina va a dormire ma anche le parti connesse vanno a dormire questo dice che quando troppe parti vanno a dormire il paziente è in stato vegetativo e questo dice che in teoria almeno in vitro è possibile restituire la complessità sbloccando questi o meglio bloccando e prevenendo questi silenzi neuronali tipici del sonno quindi questo scusate è molto breve ma giusto per darvi dei riferimenti bibliografici di fatto questo approccio multiscala che stiamo facendo anche dentro il Human Brain Project complementato da modeling e simulazione del computer dovrebbe essere un modo per capire qualcosa di più e magari per sviluppare dei modi per restituire la complessità ora chiudo con due cose una è allora sapete che c'è un'atmosfera abbastanza tesa nella scienza della coscienza ma è giusto che sia così spesso è così sui temi caldi e quindi c'è un'apparente enorme divergenza teorica io penso che questa divergenza teorica che anche si traduce in divergenze empiriche se vogliamo è più una questione di come si definisce la coscienza di come la si vuole di che cosa si vuole studiare vi faccio un esempio e c'è anche sotto un grande malinteso perché spesso confondiamo la coscienza con le funzioni esecutive l'essere col fare e bisogna stare attenti secondo me vi faccio un esempio il tipico esperimento che si fa per capire i correlati neurali di una percezione cosciente è quello di presentare degli stimoli un po' rumorosi e poi di chiedere al soggetto di schiacciare il bottone sì quando ha visto lo stimolo e di schiacciare un altro quando non l'ha visto oppure di non schiacciare niente quando non l'ha visto quando si fa questo tipo di protocolli è noto che si attiva sia la corteccia sensoriale posteriore che il lobo frontale e da qui l'idea che ci sia questo lobo frontale con una funzione determinante eccetera eccetera se però e questo ultimamente lo si è fatto molto mettendo in dubbio questa conclusione al soggetto gli si presentano delle immagini ma anche delle immagini chiarissime che lui vede sempre ma non gli si chiede di fare niente di decidere di fare di schiacciare bottoni di tenere a mente di cosare e lui però lo vede non si accende niente davanti allora questo è interessante se lo complementiamo con l'evidenza che moltissime lesioni frontali la maggior parte lasciano la coscienza intatta se lo complementiamo con l'evidenza che quando sogniamo ciò che si attiva siamo coscienti ma non agiamo le funzioni esecutive sono chiaramente ridotte sono attive le cortecce posteriori e se lo mettiamo insieme anche all'evidenza recente questo è un articolo di Ned Block una review dove se stimoliamo il cervello alla penfield è rarissimo suscitare percetti stimolando le cortecce frontali quindi sembra che ci sia una specie di gradiente o perlomeno un forte bias per le cortecce posteriori vediamo quelle anteriori quando chiediamo alla gente di fare cose ma se vogliamo misurare o se chiediamo semplicemente di percepire qualcosa non le vediamo più o le vediamo molto meno attenzione questo è importante ed è connesso a questo grafico e qui riprendo il concetto di funzionalismo touring tutto quello che avete detto ora è evidente che in mancanza di meglio noi valutiamo la coscienza sulla base della funzione comportamento intelligente input output e utilizziamo questo protocollo anche quando facciamo inferenze sulla scala naturale quindi un cane sicuramente più di una medusa perché si comporta come Mary conosce i volti di su di giù rispondemi quando lo chiama e così via un polpo effettivamente non lo so quindi non è facile ma vabbè facciamo che questo possa anche funzionare sulla scala naturale ma il mondo sta cambiando lo stiamo cambiando noi producendo tanto per cominciare è sempre stato così il sogno c'è poca funzioni osservabili da fuori e ci può essere parecchia coscienza ma soprattutto stiamo producendo questi cervelli disconnessi queste isole di coscienza che su questo asse sull'asse dell'X sarebbero vicino a zero mentre invece sono potenzialmente coscienti dentro intrinsecamente dall'altra parte stiamo facendo la dissociazione opposta stiamo creando macchine che hanno funzioni velocità performance incredibile questo è Watson questo è AlphaGo però che ha battuto l'Isse Doll al gioco più vecchio del mondo e si pone il problema lo sappiamo e il rischio qual è? è di non vedere la coscienza dove c'è e di vederla dove non c'è se lavoriamo su questo asse è interessante notare che l'architettura lo dico per inciso di queste reti neurali deep learning è molto simile a quella del cervelletto infatti il cervelletto se lo togliamo non cambia la coscienza quindi è probabile come dicevate prima che queste reti per come sono fatte adesso non c'è verso che siano coscienti però se utilizziamo questo protocollo rischiamo di sbagliarci io penso soprattutto anche alle generazioni successive quindi questo è un tema secondo me molto importante che ci impone di trovare come dicevo prima delle misure che siano basate sulla fisica del cervello e qui la buona notizia penso che stiamo convergendo cioè i lavori che puntano alla complessità non come segreto della coscienza o spiegazione definitiva della coscienza ma come correlato molto affidabile correlato fisico molto affidabile sono tanti e sono fatti da tanti gruppi che appartengono anche a sposano presupposti teorici molto diversi questo per me è un segno molto positivo nel campo della coscienza che è stato sottovalutato e che è sottovalutato perché si parla solo delle divergenze noi l'abbiamo messo in evidenza in una review che spero sarà pubblicata presto ci sono tantissimi studi soprattutto negli ultimi dieci anni un'impennata mostruosa utilizzando diverse tecniche e diversi protocolli diverse situazioni in cui la coscienza c'è e non c'è tutti dicono che la complessità funziona molto ma molto bene vi ricordo che quest'idea era nata tanto tempo fa e ci sono voluti vent'anni per poter dire ah però non era una follia quindi voglio lasciarvi con questo messaggio anche le idee teoriche che oggi sembrano folli poco intuitive aspettate a giudicarli tra vent'anni e questo infatti dovrete farlo voi visto che siete giovani grazie ringrazio tutti e soprattutto i colleghi Università di Milano a Liegi Wisconsin ospedale mi guarda Don Gnocchi e le nostre fonti ovviamente di finanziamento grazie mille professore non la trattengo che so che deve andare allora lascio la parola no beh aspetti allora io tre minuti per due domande se voi avete tempo ce li ho se no ma proprio tre minuti esatto se ci sono domande sarebbe meglio se le faceste adesso sì non siate timidi no non siate timidi qualsiasi domanda io intanto stacco lo schermo vi ascolto niente vi ho tramortito stanno ancora pensando a quanto detto forse ah in chat c'è una domanda allora poi ci può comunicare i titoli del paper chiedono di quale paper di quale paper Marta tutti tutti va bene tutti ok ok poi insomma sì sì certo ma poi per email insomma ci sentiamo anche per email comunque senz'altro ok per riguardarli meglio perfetto e invece c'è Tiziana che ringrazia molto per per la spiegazione insomma mi è piaciuta beh grazie a voi veramente sono mortificato di dover scappare per questioni familiari però mi è veramente avete fatto un'introduzione stupenda mi spiace tanti beh sentirò adesso ovviamente Matteo non vi rubo altro tempo io mi collego però insomma dal telefono va bene? sì va benissimo grazie grazie a lei lascio la parola a Matteo Sozzi che ci parlerà beh ce lo dice lei di cosa parlerà dai lascio parlare benissimo allora intanto inizio a condividere lo schermo grazie grazie a tutti grazie per l'invito grazie per queste belle chiacchierate per le cose che ho imparato anche stasera sulla coscienza dalle dagli interventi che mi hanno preceduto indubbiamente credo che sia chiaro che stiamo parlando di un argomento estremamente complesso estremamente complesso se non altro rispetto alla definizione e non è una questione come dire da sottovalutare non è una questione secondaria perché come abbiamo avuto modo di di sentire dalle introduzioni che sono state fatte dalla professoressa dell'Antonio dalla collega studentessa che poi ha fatto questa bella presentazione sulle teorie filosofiche ma anche dall'intervento del professor Massimini ci stiamo riferendo ad un costrutto teorico che è estremamente complesso e eterogeneo a seconda degli approcci e dei punti di vista che vogliamo assumere nello studio di questa istanza nello studio di questo argomento perché è così importante non è di secondaria importanza perché nel momento in cui viene fatta una domanda del tipo ma questa persona è cosciente intendendo non semplicemente già qua come dire non è poi così semplice definire semplice una persona che è vigile lo abbiamo appena visto ma una persona che ha avuto una lesione cerebrale grave massiva che ha determinato una perdita dei livelli di responsività arrivare a dire ma è cosciente significa avere in mente un costrutto teorico che è sufficientemente solido da poter dire adesso andiamo a misurare la coscienza insomma abbiamo visto che la battaglia è piuttosto complessa perché sono tanti gli aspetti da andare a considerare gli ultimi spunti le ultime suggestioni che ci ha lasciato il professor Massimini ci riportano ad un livello di complessità dell'esperienza di coscienza di fatto l'argomento è dibattuto da tempo oramai in ambito filosofico prevalentemente partito quantomeno da lì per cui intendiamo la coscienza come uno stato di consapevolezza di sé e dell'ambiente che ci circonda per cui da questo punto di vista ciò che ancora oggi riusciamo a intendere in questo senso è che la consapevolezza è un prodotto di un'esperienza soggettiva e sensoriale quanto come essere vivente vigile e come dire interattivo nell'ambiente che mi circonda sono in grado di fare una sintesi delle esperienze sensoriali che arrivano dall'esterno che percepisco dall'interno che appartengono agli stati mentali che appartengono ai qualia così come ci sono stati descritti qualche tempo dopo anche Janet e Plum entrano nel merito della definizione di stato di coscienza e cominciano a dividere il concetto di attivazione da un concetto di consapevolezza abbiamo visto cosa significa essere coscienti cosa significa essere consapevoli sono consapevole del mio essere sveglio in questo momento sono consapevole di tutti gli stati mentali che mi abitano insomma da questo punto di vista la clinica la neuropsicologia clinica ci apre le porte anche a come dire un'attenzione particolare al concetto di coscienza in termini di consapevolezza un paziente che è in grado di riferire ad esempio verbalmente il fatto di avere un'emiplegia per cui metà corpo non funziona immaginiamo la metà sinistra non riesce a muovere il braccio sinistro dopo un ictus eppure dice beh quasi quasi prendo la moto e vado a farmi un giro che tipo di coscienza c'è quale tipo di consapevolezza è presente in questa persona quindi vediamo già come il termine coscienza consapevolezza sia distaccato da un da un concetto di attivazione di arousal negli anni 90 se vogliamo restare sulle definizioni un po' cliniche è parte nell'ambito di una consensus conference una task force diciamo sugli stati vegetativi in particolare diciamo come dire questi gli autori che si sono messi a studiare intorno a questo tema arrivano a definire una condizione di coscienza intesa come una consapevolezza che richiede veglia ma la veglia può essere presente anche in assenza di consapevolezza comincia a introdursi pian piano negli anni 90 al concetto di stato vegetativo quindi che cosa capita vado un po' rapido perché vorrei arrivare alle definizioni cosa capita dal punto di vista neurobiologico abbiamo visto è necessario il fatto che vi sia una sorta di attivazione collocata diciamo grosso modo a livello dei nuclei aminergici quindi della sostanza reticolare ascendente per cui c'è come dire un'attivazione un parte un'attivazione neurotrasmettitoriale che è quella che permette di raggiungere uno stato di veglia di arousal e successivamente di accedere al contenuto dello stato di coscienza quindi gli aspetti cognitivi gli aspetti sensoriali gli aspetti percettivi le capacità di integrazione che costituiscono il nostro stato di consapevolezza la vigilanza può essere presente la consapevolezza perdono può essere presente in presenza di vigilanza quando non c'è una presenza di consapevolezza quando la presenza di consapevolezza di coscienza non è piena in ambito clinico iniziamo a entrare nell'ordine di inquadramenti diagnostici diciamo così per cui parliamo sostanzialmente di tre tipi di alterazioni dello stato di coscienza seguito di una lesione cerebrale il coma lo stato vegetativo e lo stato di minima coscienza come ha accennato il professor Massimini poco fa si tratta e lo vedremo in maniera approfondita adesso magari in questo in questo spazio in questa chiacchierata si tratta di ambiti non sempre facilmente definibili soprattutto con un'osservazione clinica perché attraverso l'osservazione clinica andiamo a fare un'analisi che è prettamente inferenziale cioè andiamo a inferire la presenza di uno stato di coscienza sulla base delle risposte che otteniamo dal paziente già fermarsi a questo tipo di descrizione mi dire attiva quantomeno in chi ha una certa familiarità con pazienti in esito di cerebro lesione quanti siano i come dire gli ostacoli i limiti che possono infastidire rispetto al raggiungimento della risposta il paziente cosciente oppure no allora partiamo dalle definizioni innanzitutto la definizione di coma come vedete risale all'87 un po' di anni fa però di fatto è rimasta quella il coma è caratterizzabile come una condizione clinica data da un'assenza di apertura degli occhi assenza di produzione verbale comprensibile assenza di risposta al comando il paziente in coma è un paziente con gli occhi chiusi che non fa niente non fa non dà alcun tipo di risposta non si muove non dà alcun movimento se utilizziamo queste barre per così avere un'idea sappiamo che quantomeno iniziamo a pensare a un paziente in coma come un paziente non vigile e ovviamente non consapevole cosa succede al paziente in stato vegetativo il paziente in stato vegetativo presenta diciamo già poche settimane dopo un evento traumatico una grave cerebrolesione la riacquisizione dei ritmi sonnoveglia che sono di fatto alterati ma in un certo qual modo nel paziente in stato vegetativo noi riusciamo a trovare la presenza di una vigilanza il paziente apre gli occhi li apre quando è vigile li chiude quando sta dormendo ma analogamente a quanto rileviamo nel paziente in coma il paziente in stato vegetativo non è consapevole o non ha consapevolezza per cui secondo la definizione di Giacino collaboratore del 2002 lo stato vegetativo è definibile come la condizione clinica in cui osserviamo un recupero della vigilanza quindi c'è apertura degli occhi ma c'è una totale assenza delle capacità di interazione con l'ambiente circostante attenzione perché totale assenza di capacità di interazione è tutta da dimostrare come abbiamo appena visto in realtà potrebbe essere che ci siano degli ostacoli che impediscono questo stato di questa capacità di interazione di base quindi è caratterizzata dalla impossibilità di rilevare delle evidenze anche indirette implicite inferenziali della presenza di uno stato di coscienza o di consapevolezza non vi sono risposte evidenti sostenute riproducibili che siano finalizzate soprattutto volontarie non vi è evidenza di comprensione di linguaggio di produzione verbale è presente una veglia intermittente è presente un'attivazione del sistema nervoso ipotalamico vegetativo da qua il concetto la definizione di stato vegetativo ovviamente non è in grado di contenere urine e feci il paziente e sono presenti in maniera variabile alcune risposte diciamo da riflessi spinali per cui il pupillare l'oculocefalico il riflesso corneale per cui la capacità di come dire chiudere gli occhi anzi non è nemmeno una capacità ma è una risposta riflessa di chiudere gli occhi quando viene sfregata leggermente la cornea con un filo di cotone e ovviamente c'è un'assenza di c'è un'assenza di funzioni cognitive evidenti lo definiamo persistente quando dura almeno quattro settimane permanente diventa una diagnosi medica quindi è una diagnosi posta nel momento in cui la probabilità di un recupero dello stato di coscienza è così basso da dire il paziente non migliorerà e resterà così in assenza di risposte in realtà dal punto di vista clinico benché i pazienti vengono definiti sulla cartella clinica stato vegetativo stato di minima coscienza iniziamo a preferire l'uso di un'altra definizione ossia la definizione di Irresponsive Wakefulness Syndrome Ossia sindrome di veglia senza risposta perché innanzitutto serve per evitare delle confusioni che potete molto bene immaginare di rappresentazione mentale dello stato del paziente per cui spesso capita che i parenti stessi dicano adesso è come una pianta o peggio ancora lo dicono altre persone di un paziente adesso è come una pianta no in realtà non ha nulla a che fare con i vegetali ma come abbiamo visto è semplicemente legato al concetto di funzionamento del sistema nervoso autonomo quindi il sistema nervoso vegetativo ma anche perché questo tipo di definizione inquadra dal punto di vista funzionale il fatto che il nostro paziente è vigile è sveglio ma non fornisce nessuna risposta oppure ha delle difficoltà nel fornire delle risposte associato allo stato vegetativo c'è una condizione che è di come dire maggiore complessità nell'essere individuata nell'essere studiata che è il cosiddetto stato di minima coscienza uno stato di minima coscienza analogamente a quanto succede con il paziente in stato vegetativo abbiamo la presenza di una vigilanza ma la consapevolezza è variabile può essere bassa può essere in alcuni momenti molto alta può essere tendenzialmente molto molto bassa parleremo allora poi di un minimale conscious state minus per cui fa veramente molto poco questo paziente può essere stabilmente alta ma di fatto oltre ad una serie di comandi il paziente non dà altri tipi di risposta ma di fatto quello che osserviamo con lo stato di minima coscienza è una fluttuazione di alcuni livelli di consapevolezza ecco che seguendo le definizioni e i criteri diagnostici pubblicati sull'American Academy of Neurology lo stato di minima coscienza è definibile come una severa alterazione della coscienza in cui siano documentabili anche in modo incostante comportamenti che esprimono consapevolezza di sé e dell'ambiente circostante ora vediamo già quanto critica e complesso sia individuare dei comportamenti che esprimono una consapevolezza di sé e dell'ambiente circostante stiamo parlando di pazienti che vivono una condizione clinica di come dire di una certa gravità di una certa severità per cui diventa anche difficile per una serie di ragioni manifestare dei comportamenti e quindi come li rileviamo generalmente in base a risposte a ordini semplici a verbalizzazioni comprensibili alla presenza di un di un riso che è appropriato o un pianto che è appropriato vocalizzazioni o gesti significativi in diretta risposta degli stimoli verbali e movimenti oculari di inseguimento di fissazione sostenuta questo è un passaggio molto molto importante soprattutto quest'ultimo punto perché laddove individuiamo dei movimenti oculari che siano congruenti quindi con una certa sicurezza riesco a rilevare il fatto che il paziente sta fissando e segue dei movimenti in maniera volontaria allora inizio a entrare in un concetto clinico di zona di confine tra stato vegetativo e stato di minima coscienza cioè i movimenti oculari sono i primissimi movimenti oculari volontari sono i primissimi segni che dai quali inferiamo o decidiamo di inferire il fatto che vi sia la presenza di una di una vagito di coscienza la presenza di una di un primo segno di consapevolezza di sé e di un ambiente che circonda perché perché il paziente comincia a dire io vedo qualcos'altro che non sono io è la faccia del mio esaminatore è la mia faccia riflessa nello specchio e segue dei movimenti in maniera costante accidenti sappiamo però che una lesione cerebrale come abbiamo visto poco fa da alcune rappresentazioni può condizionare gli stessi movimenti oculari abbiamo visto l'esempio come dire paradigmatico della maggior limite in assoluto nel fornire delle risposte di output che è la condizione clinica della locating syndrome in cui data una lesione tutto è chiuso tutti i movimenti di output sono chiusi forché i movimenti oculari quando in realtà non vi sia una lesione che coinvolga anche i nuclei ed i corsi dei nervi cranici degli oculomotori dei nervi oculomotori di fatto però sappiamo che una lesione cerebrale può di per sé accompagnare determinare delle lesioni sui decorsi dei nervi cranici in particolare del terzo del quarto del sesto paio ad esempio quindi l'oculomotore elettrocleare e l'abducente che sono quei nervi che fra tutti tutti i nervi cranici si occupano dei movimenti oculari in tutte le direzioni possibili ecco quindi che già da questo punto di vista abbiamo un impedimento nel rilevare il fatto che il paziente sia in grado di eseguire dei movimenti e come si fa? Si fa studiando il paziente si fa osservando si fa facendosi un sacco di domande dal punto di vista dell'osservazione neurocomportamentale dell'osservazione neuropsicologica diremmo si tratta di un campo diciamo così libero in cui non sono presenti test vedremo sono presenti delle scale alcune scale sono molto ben strutturate come la coma recovery scale ma di fatto la modalità di interazione col paziente deve essere una modalità tipica del metodologo tipica dello scienziato quindi vuol dire quando vado a osservare qualcosa sono sicuro di aver visto esattamente quello che sto cercando oppure sono subentrate altre variabili e quali altre variabili possono intervenire il rischio che sta dietro un'osservazione diciamo non precisa è quella di omettere e non considerare tutte le variabili che potrebbero appunto intervenire nel processo diagnostico banalmente il paziente che presenta gli occhi chiusi è un paziente in stato vegetativo a questo paziente non si risponde non si sveglia più è sempre in coma non si sveglia più in realtà probabilmente chissà ha un'aptosi bilaterale da compromissione del terzo paio dei nervi cranici per cui tutte e due le palpebre sono abbassate tipo le serrande e lì chiaramente il paziente non darà mai segni di veglia in realtà può essere che ci sia quindi come dire riusciamo a osservarlo con delle manovre di apertura delle palpebre osservazione dei movimenti oculari sottostanti eccetera qual è l'altra border zone è quella che sta oltre lo stato di minima coscienza cioè l'emergenza dallo stato di minima che è caratterizzata da una comunicazione interattiva dall'uso funzionale di oggetti da comportamenti che siano finalizzati anche nel contesto di una gravissima compromissione attentiva che impedisce un'adeguata elaborazione dell'informazione cioè prima la professoressa dell'Antonio faceva presente che è necessario avere un buon livello di attenzione un'attenzione sufficiente che permetta di integrare tutte le informazioni di input che sia un input ambientale che sia un input da percezione interna da stati mentali interni e interagire in qualche modo con l'ambiente circostante ecco questi pazienti in stato di emergenza allo stato di minima potrebbero mostrare la capacità di usare funzionalmente degli oggetti ma non sono ancora sufficientemente attenti passatemi questo termine da poter essere valutati formalmente con una valutazione neuropsicologica ad esempio con dei test psicometrici perché la tenuta attentiva è estremamente labile perché i comportamenti non sono complessi più di quello che di fatto già fanno non c'è una come dire un'intenzionalità un'esecuzione di un comportamento continuo costante di alta complessità sono diversi lavori che hanno come dire puntato l'attenzione sui segni predittivi del recupero di coscienza su questo non entro nel merito ma lo studio della presenza di un potenziale evocato motorio relativo a una risposta di evitamento e alla rilogazione della P300 ha aiutato il P300 è il potenziale evocato visivo aiuta questi autori a dire ecco di tutto un gruppo di pazienti valutati in stato vegetativo ce ne sono alcuni che di fatto presentano delle risposte compatibili con uno stato di minima coscienza quindi di nuovo siamo di fronte a una di quelle condizioni in cui la complessità del tipo di stimolo che viene dato del tipo di risposta che noi otteniamo potrebbe facilitare la rilevazione e l'osservazione di un profilo clinico oppure impedire di vederla insomma quando ci sono poi dei limiti di risposta ok come vi dicevo Loris inizia a parlare già nel 2010 di una sindrome di vigilanza in assenza di risposta e sempre restando nell'ambito delle definizioni Bruno i collaboratori cominciano come vi dicevo ad accennare al concetto di minimally conscious state plus per cui il paziente dà delle risposte a comandi verbali comunicazioni usa oggetti ma non fa altro quindi lo stato di coscienza è ancora basso ancora incapace di poter comprendere tutto quello che viene detto poter prendere decisioni poter banalmente essere sottoposto a delle prove psicometri verso un minimale inconscio state maimus in cui le risposte che rileviamo sono estremamente elementari l'inseguimento visivo e la localizzazione dello stimolo nocicettivo questa è una rappresentazione dell'evoluzione attesa spesso devo dire fortunatamente osservata in altre circostanze no l'evoluzione del paziente con una grave cerebrovisione acquisita per cui abbiamo visto se riesco a non riesco a far partire il puntatore pardon è dato una condizione di coma abbiamo un'erausa che è determinato dall'apertura degli occhi quindi passiamo ad uno stato vegetativo una responsive wakefulness syndrome la risposta a comandi o la presenza di movimenti che non siano dei movimenti riflessi dà accesso a una condizione di stato di minima coscienza la presenza di comunicazione è un elemento chiave quindi quando la comunicazione è intenzionale continua e costante quindi è indicativa del fatto che c'è un'interazione con l'ambiente esterno con l'ambiente relazionale esterno allora dà accesso a quelli che sono concetti di severa disabilità disabilità moderata e poi pian piano insomma un recupero sempre maggiore il problema della diagnosi errata si aggira intorno al 40% dati del 2014 non ho dei dati più aggiornati ma credo che non ci discostiamo più di tanto se non valutiamo in maniera approfondita la valutazione 40% di diagnosi errata intanto si è abbassata perché fino a qualche anno fa parlo di 15-20 anni fa la misdiagnosi si aggirava anche intorno al 50-60% per cui il 60% vuol dire è più probabile sbagliare la diagnosi che non farla giusta già 40% vuol dire come potete immaginare fare bene i conti una volta l'embrocco una volta no ora fortunatamente ad oggi la clinica cioè la capacità di osservazione dei pazienti è migliorata si è raffinata molto nel corso del tempo la scienza della coscienza ha fatto grossi passi ed è per questo che si è affinata la capacità clinica e abbiamo a disposizione come abbiamo visto poco fa degli strumenti che ci possono aiutare in maniera estremamente come dire precisa nell'osservazione di uno stato di coscienza ma che cosa impedisce una buona diagnosi che cosa implica la presenza di un errore nel processo diagnostico anzitutto i deficit motori abbiamo visto Lockedin syndrome l'esempio più lampante più evidente ma non c'è solo quello una lesione cerebrale può determinare delle alterazioni del tono muscolare per cui delle flaccidità o degli ipertoni muscolari delle spasticità per cui il paziente non riesce a eseguire in maniera come dire chiara ed evidente un atto motorio su richiesta esterna ma non solo la presenza di deficit cognitivi pensiamo è stato citato l'esempio dell'afasia noi ci avviciniamo al letto del paziente e diciamo chiuda gli occhi chiuda gli occhi oppure come abbiamo visto nell'esempio muova il dito indice un paziente a fasi o c'è un paziente che ha un deficit della competenza comunicativa molto probabilmente avrà una difficoltà grave nell'elaborare il comando solo perché viene dato in forma verbale quindi diventa un po' difficile da valutare da questo punto di vista ma poi non solo deficit cognitivi come deficit di orientamento viso spaziale chiedere al paziente guardami sono da questa parte oppure guarda questo oggetto che sta suonando alla tua sinistra probabilmente se il paziente è neglect non presta attenzione e quindi di nuovo perché anche i pazienti con una grave cerebrovisione acquisita e uno stato alterato di coscienza possono presentare dei deficit cognitivi e a maggior ragione deficit delle capacità di ragionamento e di elaborazione delle informazioni deficit sensoriali vista udito abbiamo visto difficoltà intanto dei movimenti oculari ma ci sono una serie una pletora di condizioni cliniche che possono ridurre le capacità visive del nostro paziente ad esempio una maurosi da stiramento del nervo ottico perché c'è stato un trauma cranico e quindi i nervi ottici non funzionano più se avete presente l'anatomia del sistema visivo nervo ottico sono subito i cavi che partono dalla retina stirato rovinato non funziona più e quindi il paziente non vede ma può esserci un problema ancora più a monte una cecità corticale una lesione cerebrale delle aree posteriori che impedisce al paziente di vedere deficit legati al dito ad esempio per alterazione sempre dei nervi cranici del 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 nervo acustico sono sono tutti come dire sono tutti elementi da considerare perché soltanto se non vengono analizzati bene soltanto il tempo fa emergere dei dubbi su alcuni comportamenti su alcune osservazioni del paziente e non vi dà sconto ad esempio alcuni esempi di pazienti che emergono e cambiano diagnosi passando da stato vegetativo stato di minima coscienza a locked in perché ci si accorge che c'è un deficit sensoriale del quale non abbiamo avuto sentore e impressione prima i trattamenti farmacologici che vengono somministrati i pazienti spesso ad esempio gli antipilettici tendono ad abbassare un po' la soglia di attenzione e quindi a ridurre il tipo di risposta le fluttuazioni dei livelli di vigilanza i nostri pazienti come tutti noi hanno dei livelli di attenzione che fluttuano nel tempo nel corso della giornata nel corso delle stimolazioni ma per i nostri pazienti sono molto più accentuati e sono molto più affaticabili vedere un paziente prima e dopo la fisioterapia non è la stessa cosa eppure stiamo parlando di un'attività di riabilitazione motoria che è blanda dura probabilmente 20 minuti al massimo mezz'ora il tempo di arrivare di stare col paziente di prepararlo e la maggior parte delle volte sono attività di mobilizzazione passiva degli arti eppure vederlo dopo può in qualche modo fornire come dire un dato falsato da una stanchezza diciamo così esperità dal paziente dopo il trattamento riabilitativo quali sono le scale di valutazione allora ci rifacciamo un lavoro che abbiamo fatto alcuni anni fa per la consensus conference in in riabilitazione neuropsicologica allora intanto cosa sono delle scale facciamo magari soltanto un piccolo punto in cosa si differenziano dai test i test sono degli strumenti che misurano quindi ci sono degli stimoli che vengono dati delle risposte che vengono raccolte le risposte che vengono raccolte si rifanno ad un campione normativo per cui dire valuto quanto si discosta la risposta del mio paziente o del soggetto dal campione normativo e questo stabilisce una sorta di gravità delle condizioni le scale sono semplicemente degli strumenti con i quali facciamo delle osservazioni cliniche ora nel lavoro che abbiamo condotto abbiamo raccolto tutte le scale che vengono utilizzate in clinica o sono descrete in letteratura per la valutazione della delle alterazioni dello stato di coscienza dopo una grave cerebrole lesione acquisita e siamo riusciti a raggrupparli fondamentalmente in quattro gruppi un primo gruppo definito che abbiamo definito di scale cosiddette descrittive un secondo gruppo in cui vi sono delle scale che sono caratterizzate dal fatto di presentare degli stimoli quindi di codificare in maniera chiara degli stimoli terzo gruppo costituito dalle scale che tengono conto delle raccomandazioni dei criteri diagnostici stabiliti dall'ASPA in work group cioè quella consensus del 2002 in cui si comincia a dire parliamo di coma stato vegetativo in minima coscienza parliamo di queste caratteristiche cliniche del paziente e un quarto gruppo di scale che sono gli strumenti somministrabili al paziente che sono già responsivi ma ancora non valutabili alla valutazione neuropsicologica nelle scale descrittive non entrerò troppo nel merito di queste di queste scale perché diventa un discorso veramente molto complesso sono tante ma fondamentalmente fate conto che sono delle scale che sono caratterizzate da criteri tassonomici da applicare all'osservazione clinica del paziente ossia vado al letto del paziente faccio un'osservazione eventualmente metto in atto delle stimolazioni che non sono delle stimolazioni codificate definite cioè dicono fai questa cosa ma è un pizzica tira guarda fai chiedi di guardarti eccetera e poi vado a osservare in quale criterio in quale tassonomia ricade il mio paziente sono scale come potete immaginare piuttosto grossolane da un certo punto di vista che certamente inquadrano le caratteristiche cliniche del paziente ma non permettono di osservare i livelli di evoluzione di un'acquisizione dello stato di coscienza le scale del secondo gruppo vi dicevo che sono le scale che considerano invece la somministrazione di stimoli e l'analisi delle risposte si comincia dunque a effettuare un tentativo un tentativo del tipo stabiliamo stabiliamo che vi siano questi stimoli da somministrare e queste risposte che devi aspettarti di osservare iniziamo allora a entrare nel merito di una di uno strumento che aiuta a studiare la presenza di uno stato di coscienza discutibile quanto vogliamo discutibile quanto vogliamo ma di fatto iniziamo a dire bene se io voglio studiare la coscienza io considero cosciente il mio paziente che ad esempio la Coma Near Coma Scale risponde almeno tre volte al suono di un campanello e come può rispondere orientando lo sguardo lo fa bene non lo fa il paziente non è cosciente è grossolano ma più delle scale tassonomiche si comincia ad osservare ad avere degli strumenti di misurazione quali sono gli aspetti critici di queste scale che sono ancora lontane dai criteri diagnostici stabiliti dall'aspen work group quindi utilizzano ancora delle diciture obsolete pensate ad esempio la Coma Near Coma il concetto di Near Coma fondamentalmente è minima coscienza per intendersi e un dettaglio importante il fatto che appartengano che non utilizzino gli stessi criteri non significa che non vengono più utilizzati la Coma Near Coma ad esempio veniva richiesta fino a pochi anni fa veniva richiesta dal sistema sanitario per la valutazione e veniva anche utilizzata in clinica io l'ho utilizzata molte volte perché la scelta degli stimoli la modalità con cui sono strutturati gli stimoli aiuta molto certo si arriva alla fine della scala e la definizione non corrisponde più quindi si fa una forzatura e si dice io assumo che questo tipo di risposte corrisponda in base ai criteri diagnostici ad uno stato di minima coscienza nel terzo gruppo rientrano solo le scale che tengono conto delle raccomandazioni dell'Aspel Network Group una sola la Coma Recovery Scale una scala che attualmente si configura come l'unico strumento che includa i criteri diagnostici è presente una versione revised del 2007 ed è costituita da 29 item gerarchicamente organizzati fondamentalmente con la Coma Recovery Scale andiamo a rilevare la presenza di risposte a stimolazioni uditive visive motori oromotori verbali comunicazione e di vigilanza può essere calcolato un punteggio totale ma in realtà nessuno in clinica utilizza il punteggio totale della scala e adesso tra un attimo vedremo perché perde il senso il punteggio globale punteggio totale intanto come viene come viene somministrata bisogna preparare il paziente bisogna che il paziente sia attivato a fornire le migliori risposte possibili quindi se il paziente ha fatto una seduta di fisioterapia è bollito non ce l'ha più è troppo stanco non somministro gli stimo chiaramente ciò che noi andiamo a andiamo a osservare è la presenza di risposte laddove ci siano delle risposte che siano come dire esattamente definite all'interno delle istruzioni quindi in questo caso noi abbiamo perché questa scala rappresenta il gold standard perché fra tutte è quella che dice benissimo se tu vuoi valutare la presenza di una coscienza della coscienza nel tuo paziente devi somministrare gli stimoli in questo modo e aspettarti ancora più precisamente questi tipi di risposta nei tempi che ti dico io quindi significa che se io vado dal mio paziente e dico chiudi gli occhi mi devo aspettare una risposta eseguita che so entro 30 secondi cosa succede se il paziente chiude gli occhi al 35esimo secondo ahimè non posso considerarla come punteggio per la scala perché la scala richiede questo formalmente devi rispondere ma ci domandiamo il paziente allora non è cosciente certamente noi stiamo assumendo che quella chiusura degli occhi siccome esce dal limite di tempo stabilito allora può essere una risposta data da qualsiasi altra stimolazione questo è il problema no cioè che le risposte date dai pazienti non siano delle risposte vere date da stimolazioni originate da stimolazioni di fatto però rimane il dubbio e se quel paziente ha una latenza così ampia probabilmente c'è una risposta ma di fatto non si può considerare e poi all'interno di questa scala ci sono tutte quelle rilevazioni così che definiremmo per prendere per prendere in prestito anche quello che ci è stato raccontato poco fa tutti gli aspetti dei qualia di coscienza cioè che cosa succede quando il paziente risponde solo quando entra nella stanza la propria mamma o un familiare o che so un particolare operatore queste cose accadono e all'inizio bisogna essere sempre molto critici quando dicono ma se guarda che risponde è sempre quando c'è presente quella persona bisogna essere sempre molto critici rispetto a questo perché a volte c'è un bias dell'esaminatore l'esaminatore va fa le cose in un modo tale per cui riesce a delicitare delle risposte che altri non riescono a delicitare quindi è un problema in tipo metodologico di base oppure di fatto questa cosa non è vera e succede solo per caso altre volte però si osserva il fatto che il paziente è in grado di percepire qualcosa che non viene rilevato dalla scala e quindi di nuovo ci domandiamo il paziente è cosciente non è cosciente è chiaro che se noi ci rifacciamo i punteggi delle scale non possiamo mentire no punteggio se non ottiene nessuna risposta significativa alla coma recovery scale non possiamo dire il paziente cosciente ma certamente va descritto dal punto di vista qualitativo quello che il paziente fa perché tutto concorre a entrare in un'osservazione che è il più complessa possibile cosa ha di buono questa scala il fatto che bypassa in qualche modo ma non del tutto i limiti che vi ho descritto poco fa mi spiego meglio cosa succede se un paziente presenta un deficit visivo per cui a seguito della lesione cerebrale perde completamente la vista non ha la possibilità di eseguire nessuno degli ordini nessuno dei compiti delle attività delle attività proposte che richiedano un'elaborazione visiva ma cosa succede se al paziente che non vede più a seguito della lesione cerebrale do in mano una spazzola la riconosce come spazzola e se la porta alla testa come nell'atto di pettinarsi quindi attenzione uso funzionale dell'oggetto io ho la possibilità di rilevare che questo paziente presenta presenta uno stato di coscienza molto alto diciamo stato di minima coscienza un'evoluzione un'evoluzione un'emergenza dello stato di minima perché è in grado di eseguire questo tipo di compito che noi chiediamo o che induciamo a svolgere pur in assenza di risposte significative sulla scala visiva quindi la bontà di questa di questa scala osservativa è quella di considerare almeno clinicamente la complessità del tipo di risposte che noi possiamo ottenere dai nostri pazienti questo è il lavoro sul quale come dire che raccomanda fortemente la CRS nella valutazione degli stati di minima coscienza e passando così facendo un salto rapido invece ai pazienti che già escono da questa condizione di stato alterato di coscienza abbiamo uno strumento molto interessante che è la preliminare neuropsicologica al battery ossia una scala ideata da cossa e collaboratori che fondamentalmente permette di misurare i livelli di cognitività di un paziente quindi siamo già oltre a questo punto siamo un paziente consapevole cosciente ma non ancora valutabile dal punto di vista cognitivo ci permette di valutare cognitivamente con dei compiti molto molto semplici in cui chiediamo di fare come dire dei match visivi tra due stimoli e domandare con un codice binario se no se gli stimoli che presentiamo sono uguali o differenti perché esiste questa scala perché è stata inventata perché c'è proprio una necessità come diceva prima il professor Massimini di misurare misurare quanto più possibile quello che noi osserviamo nei nostri pazienti certo tanto più misuriamo tanto più stringiamo la misura tanto più rischiamo di lasciare fuori delle componenti molto importanti se abbiamo una modalità di osservazione eccessivamente lasca entrano anche una serie di variabili che possono inficiare il processo di osservazione quindi il bilanciamento tra un'osservazione misurata e come dire una osservazione clinica globale del paziente è indispensabile per definire nella maniera più attendibile possibile il fatto che questo paziente sia cosciente presente a sé e al mondo che lo circonda bene con questo io ho concluso le conclusioni fondamentalmente sono un po' quelle che vi ho adesso raccontato raccontato così a voce se ci sono domande non so se sono stato nel tempo a marzo manca 20 alle 11 siamo andati ben oltre i tempi direi ok allora grazie mille sì perché effettivamente eravamo tanti a parlare quindi però appunto l'evento si è concluso perché hanno parlato tutti i relatori e le relatrici e abbiamo visto il problema della coscienza da tanti punti diversi e ho notato proprio durante l'evento il passaggio osservazioni anche molto diverse guardare magari più ai correlati neurali della coscienza affrontare il problema da un punto di vista filosofico andare a guardare poi anche i test valutativi e molto interessante grazie intanto a tutti e tutte per averci esposto i vostri studi sono stati molto interessanti e è stato bello ascoltarvi adesso se ci sono delle domande ci fa molto piacere sentitevi liberi di chiedere i sopravvissuti alle 22.40 di mercoledì sera fantastico grazie e coraggiosi ne faccio una domanda un po' per mettere insieme la parte filosofica la parte che ha esposto Ludovica la parte di Massimini e tutto il resto mi incuriosiva perché prendo spunto da una delle slide di Ludovica in cui c'era l'uomo e il pipistrello l'uomo che chiedeva al pipistrello com'è sentirsi in pipistrello e noi non potremmo mai saperlo è stata fatta una ricerca approfondita sono stati chiesti i resoconti presuppongo alle persone che sono uscite dal coma per cercare di capire come si vive l'esperienza del coma e che cosa è emerso se qualcuno sa rispondere posso rispondere io? sì sì certo allora dunque io allora io non ho un'esperienza diretta di questo non ovviamente dall'essere stato in coma ma anche se adesso mi sento un po' in pre coma sono molto stanco non ho un'esperienza diretta di pazienti che raccontino questa cosa ma mi viene da pensare a questo i pazienti che sono in coma a seguito di una lesione cerebrale presentano molto spesso dei danni cognitivi che sono davvero gravi e estremamente invalidanti per cui davvero succede quello che succede è che c'è un'alterazione di uno stato di consapevolezza e stasera abbiamo visto il livello di consapevolezza non è soltanto il qualcuno mi sta chiedendo chiudi gli occhi e quindi chiudo gli occhi e do un segno del fatto che ti ho sentito ma a livello di consapevolezza è anche consapevolezza di uno stato mentale è anche consapevolezza di una patologia pazienti che non camminano e dicono di essere in grado di camminare pazienti che non vedono e dicono di essere in grado di vedere quindi gli stati di anosognosia in qualche modo sono correlati a un'alterazione dello stato di coscienza quindi faccio un po' fatica a pensare che un paziente post coma possa raccontare in maniera vivida che cosa ha vissuto durante il coma però questo è solo basato sulla mia esperienza era per capire se si trattava di uno stato quasi onirico di sogno o se avevano proprio una consapevolezza un po' più realistica di quello che accadeva intorno a loro mi incuriosiva sì forse in mente di qualcuno che proprio gli stati iniziali ma appena svegli che avevano questi ricordi e poi rimanevano impressi soprattutto poi i clinici che li vedevano che li vedevano per primi ecco un po' questi aspetti sì qualcosa qualcuno racconta ma questi stati neroidi già in fase di veglia ma non quando sono in stato vegetale cioè non ho esperienza di pazienti che racconti in maniera vivida ecco questo no grazie prego massimini ci ha abbandonato professor massimini sì mi pare che non ci sia al momento però magari ci sono altre domande ci sono se mi sentite buonasera ciao buonasera grazie intanto per l'evento davvero molto interessante e a tutte le relatrici i relatori volevo fare una domanda se possibile un po' tra virgolette dal punto di vista dell'avvocato del diavolo se così si può chiamare riguardo alla critica riduzionistica alla alla spiegazione della coscienza non dal punto di vista di chi sostiene effettivamente una la possibilità di ridurre di ridurre a principi primi la coscienza ma dal punto di vista di uno studente di fisica e intelligenza artificiale molto interessato alla possibilità eventualmente di creare dei sistemi artificiali che si avvicinino il più possibile ad esibire un comportamento cosciente se questo può avere un significato ovviamente e cioè mi domandavo anche appunto riprendendo quello che è stato esposto dal professor Massimini se effettivamente la filosofia avesse nel senso non sono esperto della produzione filosofica a riguardo ho letto qualcosa di Chalmers ma non approfonditamente ma mi domandavo effettivamente se il problema di crisi del riduzionismo non sia effettivamente soltanto tra virgolette un problema di scala nel senso nel 72 uscì un famoso articolo di meccanica statistica di Anderson chiamato More is different dove appunto veniva essenzialmente riassunta a livello estremamente formale semplifico molto quindi se qualcuno in ascolto conosce l'articolo mi scuserà viene sostanzialmente spiegato come non necessariamente la riduzione dei fenomeni ai suoi componenti sia limitante a patto ovviamente di scegliere i componenti i componenti minimi nella maniera adeguata per esempio scusate la lunghezza ma è giusto per dare un'idea eventualmente se qualcuno non fosse familiare con la questione ma se per esempio noi andiamo a considerare il famoso esempio del mattone di gomma piuma o del mattone costituito di laterizio effettivamente è evidente che la proprietà del laterizio è rilevante per quanto concerne l'eventuale rottura della finestra a questo punto uno può ridurre ancora di più questa proprietà a delle misure di resistenza meccanica può ridurre questa proprietà ulteriormente fino ad arrivare a livello molecolare ed effettivamente vi è una una condizione di descrizione molecolare che ha a che fare con i potenziali intermolecolari oltre la quale effettivamente se si va a decomporre ulteriormente la molecola si ottengono delle parti che non presentano più questa questa proprietà tuttavia questo non è in contraddizione con il fatto che effettivamente queste molecole siano a loro volta costituite da atomi che a loro volta possono essere costituiti da particelle subatomiche semplicemente la proprietà di durezza che consente al mattone poi di rompere la finestra è esibita solamente ad una scala in cui il numero di atomi deve essere sufficientemente elevato le interazioni tra questi atomi devono essere di un tipo particolare ma effettivamente uno può andare a considerare anche queste interazioni e queste proprietà come dei costituenti essenziali poi di quella che è la struttura dell'aterizio e quella che è la struttura della della materia dura rispetto invece a una materia molle quindi mi domandavo diciamo per tornare a livello di coscienza a livello della coscienza se vi siano mai state delle argomentazioni filosofiche diciamo più pregnanti riguardo all'impossibilità di descrivere il comportamento cosciente semplicemente tra virgolette come un comportamento di molte parti essenziali ma fortemente interagenti tra loro invece che semplicemente considerare questa forma riduzionistica come una semplice decomposizione in parti sempre più elementari senza però tenere conto della possibilità che una certa proprietà sia esibita solamente quando queste parti sono presenti in grande numero o presenti in in particolare interazione reciproca non so se è chiara la questione posso provare a risponderti io innanzitutto tu ti stai riferendo alle parti minime cioè minime ad al punto di arrivare a livello atomico giusto quando tu stavi parlando appunto della coscienza potrebbe anche essere pensata come interazioni tra parti che vanno però a livello atomico o addirittura subatomico e comunque si tratta di di parti fisiche se questa è la domanda diciamo in realtà mi riferivo a parti di carattere cioè a elementi funzionali come potrebbe essere per esempio il singolo neurone o comunque la singola sinapsi quel tipo di parti che però effettivamente nulla vieta di descrivere come dei dei sistemi a loro volta composti di parti ancora più piccole che esibiscono delle determinate proprietà però diciamo per quanto la mia conoscenza sia scarsa a riguardo penso che se si scende al di sotto del livello di singolo neurone non sia così facile arrivare a modellare quelli che potrebbero essere i comportamenti rilevanti per quanto per quanto riguarda l'esperienza cosciente esatto il problema è proprio questo nel senso che se parliamo di neuroni e siamo ancora in un framework induzionista al di sotto dei neuroni a livello di appunto livello quindi ancora più a grana fine quello che abbiamo sono semplicemente numeri cioè nel senso noi potremmo addirittura ridurre l'attività neurale a una soglia che viene raggiunta per poi sparare il potenziale d'azione quindi i famosi 70 millivolt in quel caso cioè alla fine se tu hai detto che sei comunque studenti di un'attività artificiale se ti fai caso anche le reti neurali funzionano in quel modo nel senso ciascun nodo chiaramente pesato a dovere data poi la somma di quello che succede negli strati precedenti allora spara l'output eccetera eccetera spesso esattamente lo stesso concetto qual è il problema il problema del riduzionismo è che quello diciamo che l'argomentazione diciamo più comune è che la somma delle parti anche a grana fine quindi addirittura anche la somma delle parti numeriche in questo caso la somma proprio delle computazioni di un neurone per sparare potenziale d'azione così come la somma degli input in entrata di un nodo di una rete per poi sparare l'output dato un certo peso non sono sufficienti per spiegare la totalità di fenomeni complessi come quelli della coscienza perché per esempio c'è un progetto che si propone adesso presentemente anzi attuale di replicare il cervello su scala computazionale quindi di costruire un cervello simulando tutte le computazioni e la maggior parte dei filosofi coinvolti in questo progetto dicono ma dov'è il cervello questo è solo un simulacro computazionale del cervello nel senso che è non so se è impossibile perché non mi permetterei mai di dire ma uguale qualcuno si riesce però è molto improbabile che scendere di livello al punto da eliminare addirittura il suo stato fisico e arrivare alla parte computazionale quindi numeri così appunto a grana fine così di basso livello modellizzando questa cosa è quasi cioè è molto improbabile che si riesca a modellizzare fenomeni così complessi come la coscienza perché alla fine tu stai riducendo un sistema altamente complesso che non è solo calcolo ma che non è neanche solo atomo ma che non è anche solo neurone che interviste con un altro neurone tu stai cercando appunto di ridurre un fenomeno così complesso come la coscienza che è anche dovuto all'ambiente all'interazione che si ha con l'ambiente alla plasticità all'esperienza che quindi ecco il punto di vista la parte filosofica diciamo ti direbbe questa cosa più scendi più scendi di livello più omogenizzi tutto e meno chiaramente potenza esplicativa hai se so rifiuti a rispondere alla tua domanda grazie questo è quello che questo è quello che insomma che ti verrebbe risposto grazie direi una cosa se posso prendendola proprio da un angolo completamente diverso io non sono molto impressionata cioè diciamo non mi appassiona così tanto la domanda di come si realizza da un punto di vista neurale la coscienza perché faccio un mestiere diverso ovviamente è una domanda interessantissima da un punto di vista delle neuroscienze però il punto non è tanto come realizziamo la coscienza da un punto di vista neurale perché un modo ci deve essere qui nessuno è più dualista cartesiano e pensa che ci sia una sostanza pensante staccata dalla sostanza corporea e quindi che il cervello in qualche modo non realizzi la coscienza è ovvio che in qualche modo lo realizzerà e se la realizza prima o poi capiremo come è possibile che solo un organo biologico possa realizzare la coscienza e che questo non sia riproducibile se non appunto con materiale biologico questo non lo so però una cosa è la realizzazione un'altra cosa però è la comprensione del fenomeno nel senso che il dilemma da un punto di vista esplicativo è va bene ma una volta che io ho realizzato la coscienza questa che cosa fa come lavora cioè il vero problema cioè anche il professor Massimini quando ha chiuso ha slegato il problema della funzione del problema della coscienza ci ha detto state attenti perché se noi adesso badiamo solo alle funzioni un grande computer una rete neurale svolge esattamente le stesse funzioni cognitive anzi un po' meglio gioca anche a scacchi sicuramente meglio di me quindi le funzioni possono essere in parte simulate ma il fatto che ci sia la funzione non significa che ci sia la coscienza questo però adesso metto insieme anche il talk del professor Sozzi lui ci dice invece beh noi misuriamo come neuropsicologi le funzioni quindi effettivamente anche la funzione conta ma a me questo dice una cosa sull'essere umano che nell'essere umano la funzione è implementata attraverso la coscienza quindi il vero enigma secondo me il vero dilemma della filosofia della mente della scienza cognitiva che lavora a livello funzionale non a livello di implementazione il mio vero problema è com'è che la coscienza ha un potere causale cioè com'è che nell'essere umano il computer realizza quelle funzioni senza la coscienza ma non per noi per svolgere quelle funzioni la coscienza è fondamentale cioè l'essere umano non può svolgere quelle funzioni senza coscienza cioè il mito dello zombie avere le stesse facoltà cognitive senza coscienza è una sciocchezza perché per l'essere umano la coscienza è fondamentale per svolgere quelle funzioni il che vuol dire che c'è una differenza sostanziale nel modo in cui realizziamo quelle funzioni all'interno di una macchina di una simulazione reti neurali machine learning whatever e il modo in cui realizziamo quelle funzioni dentro l'essere umano e secondo me questo è quello che rende difficile da un punto di vista concettuale pensare che la simulazione possa essere equiparata alla riduzione cioè la simulazione è un gioco particolare cioè io posso anche simulare un'eruzione vulcanica attraverso un modellino con dentro un motore a scoppio e fare vedere perfettamente la lava fino a che distanza arriva a seconda della forza dell'esplosione ma non vuol dire che dentro i vulcani ci siano i motori a scoppio cioè simulare non significa significa riuscire a riprodurre il comportamento di una cosa ma non è detto che da dentro sia fatta nello stesso modo ecco secondo me questo parte al di là dei tecnicismi filosofici ne possono essere milioni sui quali possiamo metterci a giocare ma sarà emergente sarà riducibile sarà un'emergenza di un tipo o di un altro cioè possiamo sbizzarrirci però secondo me uno dei problemi chiave è questo grazie allora facciamo così visto che le facce stanche e immagino che molti di voi vogliano andare chi vuole andare a letto che domani è una giornata lunga prego fate pure prego prego professore no no e mi viene da sorridere chi vuole andare a letto si butti a letto no io davvero a me è piaciuta molto questa serata e davvero siete siete bravi avete avuto una bella idea un'ottima iniziativa domando se c'è qualcuno che è incuriosito sulla parte clinica quello sì volentieri altrimenti io davvero vi saluterei perché domani poi la giornata inizia molto presto tre due uno domande via via allora molto bello davvero anche riuscire una delle discussioni spesso ci troviamo a discutere con la professoressa dell'antonio in contesti magari non accademici quindi non lo facciamo perché stiamo lavorando ma perché ci piace talmente tanto questo aspetto e davvero l'idea è continuare a dibattere rispetto a questa multicomponenzialità del concetto di coscienza cioè di fatto c'è una difficoltà tale nel riuscire a inquadrare il concetto di coscienza e forse è proprio questo il fascino della scienza della coscienza dello studio della coscienza il fatto di non riuscire a trovare una cosa che la definisca in maniera come dire ferma e immobile ma di fatto è così è ciò che ci rappresenta forse è l'essenza di quello che rappresenta l'essere umano bene allora grazie mille per esserci stato per averci spiegato un po' quello che fa e le auguriamo una buona serata invece chi vuole rimanere come? arrivederci con una notte a tutti grazie grazie ciao Sara arrivederci grazie appunto dovessero esserci altre domande ci teniamo gli ultimi cinque minuti così e poi andiamo anche noi che siamo tutti citando ok mi pare che siamo arrivate allora perché non sento voci grazie per aver resistito fino alle 11 e ci ci vediamo al prossimo evento Uniteen no